Secondo Libro delle Cronache, Capitolo I Salomone, figliuolo di Davide, si stabilì saldamente nel suo regno, e l'Eterno, il suo Dio, fu con lui e lo elevò a somma grandezza. Salomone parlò a tutto Israele, ai capi delle migliaia e delle centinaia, ai giudici, e a tutti i principi capi delle case patriarcali di tutto Israele, ed egli con tutta la radunanza si recò all'alto luogo che era in Gabaon, qui infatti si trovava la tenda di convegno di Dio che Mosè, servo dell'Eterno, aveva fatta nel deserto. Quanto all'arca di Dio, Davide l'aveva trasportata da Kiriet-gerin al luogo che l'aveva preparato, poiché egli aveva rizzata per lei una tenda a Gerusalemme, e l'altare di rame fatto da Beth-salel, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur, si trovava anch'esso a Gabaon, davanti al tabernacolo dell'Eterno. Salomone e l'assemblea vennero a ricercarvi l'Eterno, e qui vi sull'altare di rame che era davanti alla tenda di convegno, Salomone offerse in presenza dell'Eterno mille olocausti in quella notte, Il Dio apparve a Salomone e gli disse Chiedi quello che vuoi che io ti dia. Salomone rispose a Dio Tu hai trattato con gran benevolenza Davide mio padre, e hai fatto regnare me in luogo suo. Ora, o Eterno, il Dio, se avveri la promessa che hai fatta a Davide mio padre, poiché tu mi hai fatto re di un popolo numeroso come la polvere della terra, Dammi dunque saviezza e intelligenza, affinché io sappia come condurmi di fronte a questo popolo, poiché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso. E Dio disse a Salomone Già che questo è ciò che hai nel cuore, e non hai chiesto ricchezze né beni né glorie nella morte dei tuoi nemici, e nemmeno una lunga vita, Ma hai chiesto per la saviezza e per l'intelligenza per poter amministrare la giustizia per il mio popolo del quale io t'ho fatto re? La saviezza e l'intelligenza ti sono concesse, e, oltre a questo, ti darò ricchezze, beni e gloria, Come mai lebbero mai i re che t'hanno preceduto? E come mai l'avranno alcuno dei tuoi successori? E Salomone tornò dall'alto luogo che era Gavaon, e dalla tenda di convegno a Gerusalemme, e regnò sopra Israele. Salomone radunò carri e cavalieri, ed ebbe millequattrocento carri, dodicimila cavalieri, che stanziò nelle città dove teneva i carri, e presso al re a Gerusalemme. E il re fece sì che l'argento e l'oro erano a Gerusalemme così comuni come le pietre, e i cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva gli venivano condotti dall'Egitto, e le carovane dei mercanti del re li andavano a prendere a Mandrie per un prezzo convenuto, e facevano uscire dall'Egitto e giungere a destinazione un equipaggio per il costo di seicento cicli d'argento, un cavallo per il costo di centocinquanta. Nello stesso modo per mezzo di quei mercanti se ne facciam venire per tutti i re degli Itei e per i re della Siria. Secondo libro delle Cronache Capitolo secondo Salomone decise di costruire una casa per il nome dell'Eterno e una casa reale per sé. Salomone arrolò 70.000 uomini per portare pietre, 80.000 per tagliare pietre nella montagna, e 3.600 per sorvegliarli. Poi Salomone mandò a dire ad Uram, re di Tiro, «Fa come facesti con Davide, mio padre, al quale mandasti dei cedri per edificarsi una casa di abitazione. Ecco, io sto per edificare una casa per il nome dell'Eterno e dell'Idio mio per consacrargliela, per bruciare dinanzi a Lui il profumo fragrante, per esporvi permanentemente i panni della presentazione, e per offrirvi gli olocausti del mattino e della sera, dei sabati, dei noviluni e delle feste dell'Eterno e del Dio nostro. Questa è una legge perpetua per Israele. La casa che io sto per edificare sarà grande perché l'Edio nostro è grande soprattutto gli dèi, ma chi sarà da tanto da edificargli una casa se i cieli, e i cieli dei cieli, non lo possono contenere? E chi son io per edificargli una casa, se non sia tutt'al più per bruciarvi dei profumi dinanzi a Lui? Mandami dunque un uomo abile a lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la porpora, lo scarlato, il violaceo, che sappia fare ogni sorta di lavori, di intagli, collaborando con gli artisti che sono presso di me in Giuda e a Gerusalemme, e che Davide mio padre aveva approntati. Mandami anche dal Libano del legname di cedro, di cipresso e di sandalo, perché io so che i tuoi servi sono abili nel tagliare il legname del Libano, ed ecco i miei servi saranno coi servi tuoi per prepararmi del legname in abbondanza, giacché la casa che io sto per edificare sarà grande e meravigliosa. E ai tuoi servi che abbatteranno e taglieranno il legname, io darò ventimila core di grano battuto, ventimila core d'orzo, ventimila bati di vino e ventimila bati d'olio. E Uram, re di tiro, rispose così in una lettera che mandò a Salomone, «L'Eterno, perché ama il suo popolo, ti ha costituito re su di esso». Uram aggiunse «Benedetto sia l'Eterno, l'Idio di Israele, che ha fatto i cieli e la terra, perché ha dato al re Davide un figliuolo savio, pieno di seno e di intelligenza, il quale edificerà una casa per l'Eterno e una casa reale per sé». «Io ti mando dunque un uomo abile e intelligente maestro Uram, figliuolo d'una donna delle tribù di Dan e di padre Tiro, il quale è abile di lavorare l'oro, l'argento, il rame, il ferro, la pietra, il legno, la porpora, il violaceo, il bisso, lo scarlato, e sa pur fare ogni sorta di lavoro e di intaglio e di eseguire qualsiasi lavoro d'arte e di si affidi, «Egli collaborerà con i tuoi artisti e con gli artisti del mio signore Davide, tuo padre. Ordunque mandi il mio signore ai suoi servi il grano, l'orzo, l'olio e il vino di cui egli ha parlato, e noi dal canto nostro taglieremo del legname del Libano quanto te ne abbisognerà, te lo spediremo per mare su zattere fine a Giaffo, e tu lo farai trasportare a Gerusalemme». Salomone fece fare il conto di tutti gli stranieri che si trovavano nel paese di Israele e dei quali già Davide, suo padre, aveva fatto il censimento, e se ne trovò centocinquantatremila seicento, e ne prese settantamila per portare pesi, ottantamila per tagliare pietre della montagna e tremila seicento per sorvegliare e far lavorare il popolo. SECONDO LIBRO DELLE CRONACHE CAPITOLO TERSO Salomone cominciò a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme sul monte Moria, dove l'Eterno era apparso a Davide suo padre nel luogo che Davide aveva preparato nell'aia di Ornam il Gebuseo. Egli cominciò la costruzione il secondo giorno del secondo mese del quarto anno del suo regno. Or queste sono le misure dei fondamenti gettati da Salomone per la costruzione della casa di Dio. La lunghezza in cubiti dell'antica misura era di sessanta cubiti, la larghezza di venti cubiti, il portico sul davanti della casa aveva venti cubiti di larghezza, rispondenti alla larghezza della casa, e centoventi d'altezza. Salomone ricoprì d'oro finissimo l'interno della casa, e egli ricoprì la casa maggiore di legno e di cipresso, poi la rivestì d'oro finissimo, e vi fece scolpire delle palme e delle catenelle. Rivestì quella casa di pietre preziosi per ornamento, e l'oro era quello di pavaim. Rivestì pure d'oro la casa, le travi, gli stipiti, le pareti e le porte, e sulle pareti fece dei cherubini d'intaglio. E costruì il luogo santissimo. Esso aveva venti cubiti di lunghezza, corrispondenti alla larghezza della casa, e venti cubiti di larghezza. Lo ricoprì d'oro finissimo del valore di seicento talenti, e il peso dell'oro per i chiodi ascendeva a cinquanta sicli. Rivestì anche d'oro le camere superiori. Nel luogo santissimo fece scolpire due statue di cherubini, che furono ricoperti d'oro. Le ale dei cherubini avevano venti cubiti di lunghezza. L'ala del primo lunga cinque cubiti toccava la parete della casa. L'altra ala pure di cinque cubiti toccava l'ala del secondo cherubino. L'ala del secondo cherubino lunga cinque cubiti toccava la parete della casa. L'altra ala pure di cinque cubiti arrivava all'ala dell'altro cherubino. Le ale di questi cherubini spiegate misuravano venti cubiti. Esse stavano ritti in pie, e avevano le facce volte verso la sala, e fece il velo di filo violaceo porporino scarlato di bisso, e vi fece ricamare dei cherubini. Fece pure davanti alla casa due colonne di trentacinque cubiti d'altezza, e il capitello in cima a ciascuno era di cinque cubiti. Fece delle catenelle come quelle che erano nel santuario, e le posse in cima alle colonne, e fece cento melagrane che sospese alle catenelle. E rizzò le colonne dinnanzi al tempio, una a destra e l'altra a sinistra, e chiamò quella di destra, Giacchin, quella di sinistra, Boaz. Secondo libro delle cronache, capitolo quarto Poi fece un altare di rame lungo venti cubiti, largo venti cubiti, e alto dieci cubiti. Fece pure il mare di getto, che aveva dieci cubiti da un lorlo all'altro, era di forma perfettamente rotonda, aveva cinque cubiti d'altezza, e una corda di trinta cubiti ne misurava la circonferenza. Sotto all'orlo lo circondavano delle figure di buoi, dieci per cubito, facendo tutto il giro del mare, erano disposti in due ordini, ed erano stati fusi insieme col mare. Questo posava su dodici buoi, dei quali tre guardavano a settentrione, tre a occidente, tre a mezzogiorno, e tre ad oriente. Il mare stava su di essi, e le parti posteriori dei buoi erano volte verso il di dentro. Esso aveva lo spessore d'un palmo. Il suo orlo fatto come l'orlo d'una coppa aveva la forma d'un fior di giglio. Il mare poteva contenere tremila bati. Fece pure dieci conche, e ne pose cinque a destra e cinque a sinistra, perché servissero alle purificazioni. Vi si lavava ciò che serviva agli olocausti, il mare era destinato alle abulazioni dei sacerdoti, e fece i dieci candelabri d'oro, conformemente alle norme che li consellevano, e li pose nel tempio, cinque a destra e cinque a sinistra. Fece anche dieci tavole che pose nel tempio, cinque a destra e cinque a sinistra. E fece cento bacini d'oro, fece pure il cortile dei sacerdoti, e il gran cortile con le sue porte, delle quali ricoprì di rame i battenti, e pose il mare al lato destro della casa verso il sud-est. Uram fece pure i vasi per le sceneri, e le palette, e i bacini. Così Uram compì l'opera che aveva fatta per il re Salomone nella casa di Dio. Le due colonne, le due palle dei capitelli in cima alle colonne, i due reticolati per coprire le due palle dei capitelli in cima alle colonne, le quattrocento melagrane per i due reticolati, a due ordini di melagrane per ogni reticolato, per coprire le due palle dei capitelli in cima alle colonne, e fece le basi e le conche delle basi, il mare, che era unico, e i dodici buoi sotto il mare, e i vasi per le scenerie, le palette, i forchettoni, e tutti gli utensili accessori. Maestro Uram li fece per il re Salomone e per la casa dell'Eterno, di rame tirato e pulimento. Il re li fece fondere nella pianura del Giordano in un suolo argilloso fra Sukkot e Zereda. Salomone fece tutti questi utensili in così gran quantità che non se ne riscontrò il peso del rame. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa di Dio, l'altare d'oro, le tavole sulle quali si mettevano i panni della presentazione, i candelabri d'oro puro, con le loro lampade da accendere secondo la norma stabilita davanti al santuario, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro del più puro, i coltelli, i bacini, le coppe, i brasieri d'oro fino. Quanto alla porta della casa, i battenti interiori dell'ingresso del luogo santissimo e le porte della casa dell'ingresso del tempio erano d'oro. Secondo libro delle Cronache, capitolo quinto Così fu compiuta tutta l'opera che Salomone fece eseguire per la casa dell'Eterno e Salomone fece portare l'argento, l'oro e tutti gli utensili che Davide e suo padre aveva consacrati e li mise nei tesori della casa di Dio. Allora Salomone ragionò a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù e principi delle famiglie patriarcali dei figlioli di Israele per portare sull'arca del patto dell'Eterno dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re per la festa che cadeva il settimo mese. Arrivati che furono tutti gli anziani di Israele, i leviti presero l'arca e portarono sull'arca la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda, e i sacerdoti e i leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la radunanza di Israele convocata presso di lui si raccolsero davanti all'arca e immolarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al luogo destinato, nel santuario della casa, nel luogo santissimo sotto le ali dei cherubini, poiché i cherubini avevano le ali spiegate sopra il sito dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano sporgere dall'arca davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste qui fino al di oggi. Nell'arca non vera altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva fatto deposte sullo Horeb, quando l'Eterno fece patto con i figlioli di Israele dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto. Or avvenne che, mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, già che tutti i sacerdoti presenti s'erano santificati senza osservare l'ordine delle classi, e tutti i leviti cantori, Asaf, Eman, Geduthun, i loro figlioli e i loro fratelli vestiti di bisso, coi cembari, salteri, cedre, stavano in pie ad oriente dell'altare, e con essi centoventi sacerdoti che suonavano la tromba. Mentre, dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un sol uomo fecero udire un'unica voce per celebrare e per laudare l'Eterno, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembri e degli altri strumenti musicali e celebrarono l'Eterno dicendo «Celebrate l'Eterno perché gli è buono, perché la sua dignità dura in perpetuo». Avvenne che la casa, la casa dell'Eterno, fu riempita da una nuvola, e i sacerdoti non poterno rimanervi per farvi l'ufficio loro a motivo della nuvola, poiché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Secondo libro delle Cronache, capitolo VI Allora Salomone disse «L'Eterno ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità, e io t'ho costruito una casa per la tua abitazione, un luogo dove tu dimorerai in perpetuo». Poi il Re volto la faccia e benedisse tutta la radunanza di Israele, e tutta la radunanza di Israele starà in piedi, e disse «Benedetto sia l'Eterno l'Iddio di Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide mio padre, e con la sua potenza ha adempiuto quel che aveva dichiarato dicendo «Dal giorno che trassi il mio popolo di Israele dal paese d'Egitto, io non scelsi alcuna città fra tutte le tribù di Israele per edificarvi una casa ove il mio nome dimorasse, e non scelsi alcun uomo perché fosse il principe del mio popolo di Israele, ma ho scelto Gerusalemme perché il mio nome vi dimori, e ho scelto Davide per regnare sul mio popolo di Israele. Ora Davide mio padre ebbe in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno dell'Iddio di Israele, ma l'Eterno disse a Davide mio padre «Quando all'aver tu avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad aver questo in cuore, però non sarai tu che edificherai la casa, ma il tuo figliuolo che uscirà dalle tue viscere sarà quelli che costruirà la casa del mio nome». E l'Eterno ha adempiuto la parola che aveva pronunziata. E io sono sorto in luogo di Davide mio padre, e mi sono assiso sul trono di Israele, come l'Eterno aveva annunziato, e ho costruito la casa al nome dell'Eterno dell'Iddio di Israele, e qui vi ho posto l'arca nella quale è il patto dell'Eterno, il patto che egli fermò con i figliuoli di Israele. Poi Salomone si posse davanti all'altare dell'Eterno in presenza di tutta la radunanza di Israele, e stesse le sue mani. Egli infatti aveva fatto costruire una tribuna di rame lunga cinque cubiti, larga cinque cubiti, e alta tre cubiti, e l'aveva posta in mezzo al cortile. Egli vi salì, si mise in ginocchio in presenza di tutta la radunanza di Israele, stesse le mani verso il cielo, e disse, «O Eterno Dio di Israele, non vè Dio che sia simile a te, né in cielo né in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuto la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano, oggi la dempie. Ora, dunque, O Eterno, il Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti, dicendo, «Non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele, perché i tuoi figlioli veglino sulla loro condotta e camminino secondo la mia legge, e come tu hai camminato in mia presenza. Ordunque, O Eterno, Dio di Israele, saveri la parola che dicesti al tuo servo Davide. Ma egli è proprio vero che Dio abiti con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possano contenere quantomeno questa casa che io ho costruita. Non di meno, O Eterno, Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplicazione, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo ti rivolge. Siano gli occhi tuoi giorno e notte aperti su questa casa, sul luogo nel quale dicesti di voler mettere il tuo nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Ascolta le supplicazioni del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua timore nei cieli. Ascolta e perdona. Quando uno avrà peccato contro il suo prossimo e si esigerà da lui il giuramento per costringerlo a giurare, se quelli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascoltalo dal cielo, agisci e giudica i tuoi servi, condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente trattandolo secondo la tua giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se ne torna a te, se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e supplicazioni in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, perdona al tuo popolo d'Israele il suo peccato e riconduscilo nel paese che desti a lui e ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia a motivo dei loro peccati contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si convertono dai loro peccati perché li avrai afflitti e tu esaudisci dal cielo, perdona il loro peccato ai tuoi servi e al tuo popolo d'Israele, ai quali avrai mostrato la buona strada per cui debbano camminare e manda la pioggia sulla terra che hai data come eredità al tuo popolo. Quando il paese sarà invaso dalla carestia, dalla peste, dalla ruggine, dal carbone, dalle locuste, dai bruci, quando il nemico assalirà il tuo popolo nel suo paese e nelle sue città, quando scoppierà qualsivoglia flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplicazione che ti sarà rivolta da un individuo o dall'intero tuo popolo d'Israele, allorché ciascun avrà riconosciuta la sua piaga e il suo dolore e stenderà le sue mani verso questa casa, tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora e perdona, rendi a ciascuno secondo le sue vie, tu che conosci il cuore d'ognuno, poiché tu solo conosci il cuore dei figliuoli e degli uomini, affinché essi ti temano e camminano nelle tue vie, tutto il popolo, tempo che avranno nel paese che tu desti ai padri nostri. Anche lo straniero, che non è del tuo popolo d'Israele, quando verrà da un paese lontano a motivo del tuo gran nome, della tua mano potente, del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, dal luogo della tua dimora e concedi a questo straniero tutto quello che ti domanderà, affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, per temerti, come fa il tuo popolo d'Israele, e sappiano che il tuo nome è invocato su questa casa che io ho costruita. Quando il tuo popolo partirà per muover guerra al suo nemico, seguendo la via per la quale tu l'avrai mandato, se ti innalza preghiera rivolto alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita nel tuo nome, esaudisci dal cielo le sue preghiere, le sue supplicazioni, e fagli ragione. Quando peccheranno contro di te, poiché non ve' uomo che non pecchi, e tu ti sarai mosso a sdegno contro di loro e li avrai abbandonati in balia del nemico che li menerà in cattività in un paese lontano o vicino, se nel paese dove saranno schiavi rientrano in se stessi se tornano a te e ti rivolgono supplicazioni nel paese del loro servaggio e dicono abbiamo peccato, abbiamo operato iniquamente, e siamo stati malvagi. Se tornano a te con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro nel paese del loro servaggio dove sono stati menati schiavi, ti pregano rivolti al loro paese, al paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita nel tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, la loro preghiera e le loro supplicazioni, e fa loro ragione, perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. Ora, o Dio mio, siano aperti gli occhi tuoi e siano attente le tue orecchie alla preghiera fatta in questo luogo, ed ora levati, o Eterno Dio, viene al luogo del tuo riposo, tu è l'arca della tua forza, i tuoi sacerdoti, o Eterno Dio, siano rivestiti di salvezza e giubilino nel nome dei tuoi fedeli, o Eterno, o Dio, non respingere la faccia del tuo unto, ricordati delle grazie fatte a Davide, tuo servo. Secondo libro delle Cronache, capitolo 7 Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria dell'Eterno riempì la casa, e i sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno a motivo della gloria dell'Eterno che riempiva la casa dell'Eterno. Tutti i figliuoli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria dell'Eterno sulla casa, e si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono l'Eterno dicendo, Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, e perché la sua benignità dura in perpetuo. Poi il re e tutto il popolo offrirono dei sacrifici davanti all'Eterno. Il re Salomone offrì in sacrificio ventiduemila buoi e centoventimila pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono la casa di Dio. I sacerdoti stavano in pie intenti ai loro uffici, così pure i leviti con gli strumenti musicali consacrati all'Eterno che il re Davide aveva fatti per lodare l'Eterno la cui benignità dura in perpetuo quando anche Davide celebrava con essi l'Eterno. E i sacerdoti sonavano la tromba di rimpetto ai leviti, e tutto Israele stava in piedi. Salomone consacrò la parte di mezzo del cortile che è davanti alla casa dell'Eterno, poiché offrì qui vi gli olocausti e i grassi dei sacrifici di azioni di grazie, giacché l'altare di rame che Salomone aveva fatto non poteva contenere gli olocausti, le oblazioni e i grassi. E in quel tempo Salomone celebrò la festa per sette giorni e tutto Israele con lui. Ci fu una grandissima raunanza di gente venuta da tutto il paese, da dintorni di Amat fino al torrente d'Egitto. L'ottavo giorno fecero una radunanza solenne, poiché celebrarono la dedicazione dell'altare per sette giorni e la festa per altri sette giorni. Il ventitresimo giorno del settimo mese Salomone rimandò alle sue tende il popolo allegro e col cuore contento per il bene che l'Eterno aveva fatto a Davide e a Salomone e a Israele suo popolo. Salomone dunque terminò la casa dell'Eterno e la casa reale e condusse a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa dell'Eterno e nella sua propria casa. E l'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse Io ho esaudita la tua preghiera mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici quando io chiuderò il cielo in guisa che non vi sarà più pioggia quando ordinerò alle locuste di divorare il paese quando manderò la peste fra il mio popolo se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia prega e cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie io lo esaudirò dal cielo e gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese i miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo poiché ora ho scelto e santificata questa casa affinché il mio nome vi rimanga in perpetuo e gli occhi miei del mio cuore saran qui vi sempre quanto a te se tu cammini dinanzi a me come camminò Davide tuo padre facendo tutto quello che t'ho comandato e se osservi le mie leggi i miei precetti io stabilirò il trono del tuo regno come promisse a Davide tuo padre dicendo non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele ma se vi ritraete da me e abbandonate le mie leggi e i miei comandamenti che io vi ho posti dinanzi e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi dinanzi a loro io vi sradicherò dal mio paese che v'ho dato e ricetterò dal mio cospetto la casa che ho consacrata al mio nome e la farò divenire la favola e lo zimbello di tutti i popoli chiunque passerà vicino a questa casa già così eccelsa stupirà e dirà perché l'Eterno ha egli ritratto in tal guisa questo paese e questa casa e si risponderà perché hanno abbandonato l'Eterno l'iddio dei loro padri che li trasse dal paese d'Egitto si sono invaghiti di altri dei si sono prostrati dinanzi a loro e li hanno serviti ecco perché l'Eterno ha fatto venire tutti questi mali su loro secondo libro delle cronache capitolo ottavo ora venne che passati i venti anni nei quali Salomone edificò la casa dell'Eterno e la sua propria casa egli ricostruì le città che Uram gli aveva dato e vi fece abitare i figliuoli di Israele e Salomone marciò contro Amat Zoba e se ne impadronì e ricostruì Tadmor nella parte deserta del paese e tutte le città di rifornimento in Amat ricostruì pure Beth Oron superiore e Beth Oron inferiore città forti munite di mura di porte e di sbarre riedificò Balaat e tutte le città di rifornimento che appartenevano al re tutte le città per i suoi carri le città per i suoi cavalieri insomma tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme al Libano e in tutto il paese del suo dominio di tutta la popolazione che era rimasta degli Ittei degli Amorei dei Feresei degli Ivei dei Gabusei che non erano di Israele vale a dire dei loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese e che gli israeliti non avevano distrutti Salomone fece tanti servi per le comandate e tali sono rimasti fino al di d'oggi ma dei figlioli di Israele Salomone non impiegò alcuno come servo per i suoi lavori essi furono la sua gente di guerra capi dei suoi condottieri e comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri i capi preposti al popolo dal re Salomone incaricati di sorvegliarlo erano in numero di duecentocinquanta o Salomone fece salire la figliola di Faraone dalla città di Davide alla casa che gli aveva fatto costruire perché disse la moglie mia non abiterà nella casa di Davide e di Israele perché i luoghi dove era entrata l'arca dell'Eterno sono santi allora Salomone offrì degli olocausti all'Eterno sull'altare dell'Eterno che gli aveva costruito davanti al portico offriva quello che bisognava offrire secondo l'ordine di Mosè ogni giorno nei sabati nei noviluni e nelle feste solenni tre volte all'anno alla festa degli azimi alla festa delle settimane e alla festa delle capanne e stabilì nelle loro funzioni come le aveva regolate Davide suo padre le classi dei sacerdoti i leviti nella loro incombenza di celebrare l'Eterno e fare il servizio in presenza dei sacerdoti giorno per giorno e i portinai e a ciascuna porta secondo le loro classi poiché così aveva ordinato Davide l'uomo di Dio e non si deviò in nulla dagli ordini che il re aveva dato circa ai sacerdoti e i leviti come pure relativamente ai tesori così fu condotta tutta l'opera di Salomone dal giorno in cui fu fondata la casa dell'Eterno fino a quando fu terminata la casa dell'Eterno ebbe il suo perfetto compimento allora Salomone partì per Estion Geber e per Eloth sulla riva del mare nel paese di Edom e Uram per mezzo della sua gente gli mandò delle navi e degli uomini che conoscevano il mare i quali andarono con la gente di Salomone ad Ophir vi presero quattrocentocinquanta talenti d'oro e li portarono al re Salomone secondo libro delle cronache capitolo nono ora la regina di Sheba avendo udito la fama che circondava Salomone venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con degli enimmi e la giunse con un numerosissimo seguito con cammelli carichi di aromi d'oro in gran quantità e di pietre preziose e recatesi da Salomone gli disse tutto quello che aveva in cuore Salomone rispose a tutte le questioni proposte gli da lei e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che ei non sapesse spiegare e quando la regina di Sheba ebbe veduto la sapienza di Salomone la casa che gli aveva costruita e le vivande della sua mensa e gli alloggi dei suoi servi e l'ordine di servizio dei suoi ufficiali e le loro vesti e i suoi coppieri e le loro vesti e gli olocausti che gli offriva nella casa dell'Eterno rimase fuori di sé dalla meraviglia e disse al re quello che avevo sentito dire nel mio paese dei fatti tuoi e della tua sapienza era dunque vero ma io non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con gli occhi miei ed ecco ora non mi era stata riferita neppure la metà della grandezza della tua sapienza tu sorpassi la fama che mi era giunta beata la tua gente beati questi tuoi servi che stanno del continuo dinanzi a te ed ascoltano la tua sapienza sia benedetto l'Eterno il tuo Dio il quale t'ha gradito mettendoti sul suo trono onde tu regni per l'Eterno per il tuo Dio l'Idio ti ha stabilito re per far ragione e giustizia perché gli ama Israele e vuol conservarlo in perpetuo poi ella donò al re centoventi talenti d'oro grandissima quantità di aromi e delle pietre preziose non vi furono più tali aromi come quelli che la regina di Sheba diede al re Salomone i servi di Uram e i servi di Salomone che portavano oro da Ophir portavano anche del legno di sandalo e delle pietre preziose e di questo legno di sandalo il re fece delle scale per la casa dell'Eterno e per la casa reale delle scetre e dei salteri per i cantori del legno come questo non se n'era mai visto prima nel paese di Giuda il re Salomone diede alla regina di Sheba tutto quella che essa bramò e chiese oltre all'equivalente di quello che essa aveva portato al re poi ella si rimise in cammino e coi suoi servi se ne ritornò al suo paese ora il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti oltre quello che percepiva dai trafficatori e dai negozianti che gliele portavano da tutti i re dall'Arabia e dai governatori del paese che recavano a Salomone dell'oro e dell'argento e il re Salomone fece fare duecento scudi grandi d'oro battuto per ognuno dei quali impiegò seicento sicli d'oro battuto e trecento altri scudi d'oro battuto per ognuno dei quali impiegò trecento sicli d'oro e il re li mise nella casa della foresta del Libano e il re fece pure un gran trono d'avorio che rivestì d'oro puro questo trono aveva sei gradini e una predella d'oro connessi col trono verono dei bracci da un lato e dall'altro del seggio e due leoni stavano presso i bracci e dodici leoni stavano su sei gradini da una parte e dall'altra niente di simile era ancora stato fatto in vero un altro regno e tutte le coppe del re di Salomone erano d'oro e tutto il vasellame della casa della foresta del Libano era d'oro puro dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone poiché il re aveva delle navi che andavano a Tarsis con la gente di Uram e una volta ogni tre anni venivano le navi da Tarsis recando l'oro l'argento l'avorio scimmie e pavoni così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per sapienza e tutti i re della terra cercavano di vedere Salomone per udire la sapienza che Dio gli aveva messa in cuore e ognun d'essi gli portava il suo dono vasi d'argento vasi d'oro vesti armi aromi cavalli muli e questo avveniva ogni anno Salomone aveva delle scuderie per quattromila cavalli dei carri e dodicimila cavalieri che distribuiva nelle città dove teneva i suoi carri e in Gerusalemme presso di sé egli signoreggiava su tutti i re dal fiume sino al paese dei filistei e fino ai confini d'Egitto e il re fece sì che l'argento era in Gerusalemme così comune come le pietre e i cedri tanto abbondanti quante si comori della pianura e si conducevano a Salomone dei cavalli dell'Egitto e da tutti i paesi ora il rimanente delle azioni di Salomone le prime e le ultime sono scritte nel libro di Nathan il profeta nella profezia di Ahija il scilo e nelle visioni di Geddo il veggente relative a Geroboamo figliolo di Nebat Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele quarant'anni poi Salomone si addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide suo padre e Roboamo suo figliolo regnò in luogo suo secondo libro delle cronache capitolo decimo Roboamo andò a Siche perché tutto Israele era venuto a Siche per farlo re quando Geroboamo figliolo di Nebat ebbe diciamo notizia si trovava ancora in Egitto dove era fuggito per scampare dal re Salomone e tornò dall'Egitto e lo mandarono a chiamare e Geroboamo e tutto Israele vennero e parlarono a Roboamo e gli dissero tuo padre ha reso duro il nostro gioco ora rendi tu più lieve la dura servitù e il gioco pesante che tuo padre ci ha imposti e noi ti serviremo ed egli rispose loro tornate da me fra tre giorni e il popolo se ne andò il re Roboamo si consigliò coi vecchi che erano stati al servizio del re Salomone suo padre mentre era vivo e disse che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo e quelli gli parlarono così se ti mostri benevolo verso questo popolo e gli compiaci e se gli parli con bontà ti sarà servo per sempre ma Roboamo abbandonò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò coi giovani che erano cresciuti con lui ed erano stati al suo servizio e disse loro come consigliate voi che rispondiamo a questo popolo che mi ha parlato dicendo alleva il gioco che tuo padre ci ha imposto e i giovani che erano cresciuti con lui gli parlarono così ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro gioco e tu ce lo allevia gli risponderai così il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre ora mio padre vi ha caricati in un gioco pesante ma io lo renderò più pesante ancora mio padre vi ha castigati con la frusta io vi castigherò coi flagelli a punte tre giorni dopo Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo come aveva ordinato il re dicendo tornate da me fra tre giorni e il re rispose loro duramente abbandonando il consiglio che i vecchi gli avevano dato e parlò loro secondo il consiglio dei giovani dicendo mio padre ha reso pesante il vostro gioco ma io lo renderò più pesante ancora mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò coi flagelli a punte coso il re non diede ascolto al popolo perché questa era cosa diretta da Dio affinché si adempisse la parola che l'Eterno aveva pronunziata per mezzo di Ahija di Scilo a Geroboamo figliolo di Nebat e quando tutto Israele vide che il re non gli dava ascolto rispose al re dicendo che abbiamo noi da fare con Davide noi non abbiamo nulla in comune col figliolo di Sai ognuno alle sue tende o Israele provvedi ora tu alla casa o Davide e tutto Israele se ne andò alle sue tende ma i suoi figlioli di Israele che abitavano nelle città di Giuda regnò Roboamo e il re Roboamo mandò loro adoram preposto ai tributi ma i figlioli di Israele lo lapidarono ed egli morì e il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme così Israele si ribellò alla casa di Davide ed è rimasto ribelle fino al di d'oggi secondo libro delle cronache capitolo undicesimo Roboamo Roboamo giunto che fu a Gerusalemme radunò la casa di Giuda e di Beniamino centottantamila uomini guerrieri certi per combattere contro Israele e restituire il regno a Roboamo ma la parola dell'Eterno fu rivolta a Shemaia uomo di Dio parla a Roboamo figliolo di Salomone re di Giuda e a tutto Israele in Giuda e in Beniamino e di loro così parla all'Eterno non salite a combattere contro i vostri fratelli ognuno se ne torni a casa sua perché questo è venuto per voler mio quelli ubbidirono alla parola dell'Eterno e se ne tornarono via rinunziando a marciare contro Geroboamo Roboamo abitò in Gerusalemme e costruì delle città fortificate in Giuda costruì Bethlehem Etam Tekoa Betsur Soko Adulam Gath Meresha Zif Adoraim Lachim Ezeka Zorea Ahialon e Ebron che erano in Giuda e in Beniamino e ne fece delle città fortificate munì queste città fortificate e vi posse dei comandanti e dei magazzini di viveri d'olio e di vino e in ognuna di queste città mise scudi e lance e le resse straordinariamente forti e Giuda e Beniamino furono per lui i sacerdoti e le viti di tutto Israele vennero da tutte le loro contrade a porsi accanto a lui poiché le viti abbandonarono i loro contadi e le loro proprietà e vennero in Giuda a Gerusalemme perché Geroboamo con i suoi figlioli li aveva cacciati perché non esercitassero più l'ufficio di sacerdoti dell'Eterno si era creato dei sacerdoti per degli altri luoghi per i demoni per i vitelli che aveva fatti e quelli di tutte le tribù di Israele che avevano in cuore di cercare l'Eterno l'Idio di Israele seguirono i leviti a Gerusalemme per offrire sacrifici all'Eterno all'Idio dei loro padri e fortificarono così il regno di Giuda e resero stabile Roboamo figliuolo di Salomone durante tre anni perché per tre anni seguirono la via di Davide e di Salomone Roboamo prese per moglie Mahalad figliuola di Verimot figliuolo di Davide figliuolo di Eliab figliuolo di Sai essa gli partorì questi figliuoli Jehush Shemaria e Zaham dopo di lei prese Mahaka figliuola di Absalom la quale gli partorì Abigia Attai Zisa Shelomit e Roboamo amò Mahaka figliuola di Absalom più di tutte le sue mogli e di tutte le sue concubine perché ebbe diciotto mogli e sessanta concubine e generò ventotto figliuoli e sessanta figliuole Roboamo stabilì Abigia figliuolo di Mahaka come capo della famiglia e principe dei suoi fratelli perché aveva in mente di farlo re e con avvedutezza sparse tutti i suoi figliuoli per tutte le contradi di Giude e di Beniamino in tutte le città fortificate e dette loro vivere in abbondanza e cercò per loro molte mogli secondo libro delle cronache capitolo dodicesimo quando Roboamo fu ben stabilito e fortificato nel regno egli e tutto Israele con lui abbandonò la legge dell'Eterno e l'anno quinto del regno di Roboamo Shishak re dell'Egitto salì contro Gerusalemme perché si erano stati infedeli all'Eterno egli aveva 1200 cari e 60.000 cavalieri con lui venne dall'Egitto un popolo innumerevole di Libi di Sukchei di Etiopi si impadronì delle città fortificate che appartenevano a Giuda e giunse fino a Gerusalemme e il profeta Shemaia si recò da Roboamo e dai capi di Giuda che erano raccolti in Gerusalemme all'avvicinarsi di Shishak e disse loro così dice l'Eterno voi avete abbandonato me quindi anch'io ho abbandonato voi nelle mani di Shishak allora i principi di Israele e il re si umiliarono e dissero l'Eterno è giusto e quando l'Eterno vide che si erano umiliati la parola dell'Eterno fu rivolta a Shemaia essi si sono umiliati io non li distruggerò ma concederò loro fra poco un mezzo di scampo e la mia ira non si rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Shishak non di meno gli saranno soggetti e impareranno la differenza che ve fra il servire a me e il servire ai regni degli altri paesi Shishak redegito salì dunque contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa dell'Eterno e i tesori della casa del re portò via ogni cosa prese pure gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti invece di quelli il re Roboamo fece fare degli scudi di rame e li affidò ai capitani della guardia che costruivano la porta della casa del re ed ogni volta che il re entrava nella casa dell'Eterno quei della guardia venivano e li portavano poi nella sala delle guardie così perché egli si era umiliato l'Eterno rimosse da lui l'ira sua e non volle distruggerlo del tutto e verano anche in Giuda delle cose buone il re Roboamo dunque si rese forte in Gerusalemme e continuò a regnare aveva 41 anni quando cominciò a regnare e regnò 17 anni in Gerusalemme la città che l'Eterno aveva scelta fra tutte le tribù di Israele per stabilirvi il suo nome sua madre si chiamava Naamala monita ed egli fece il male perché non applicò il cuor suo alla ricerca dell'Eterno ora le azioni di Roboamo le prime e le ultime sono scritte nelle storie del profeta la scimaia e Dido il reggente nei registri genealogici e vi fu guerra continua fra Roboamo e Geo Roboamo Roboamo si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide e Abija suo figliolo regnò in luogo suo secondo libro delle cronache capitolo tredicesimo il diciottesimo anno del regno di Geroboamo Abija cominciò a regnare sopra Giuda regnò tre anni in Gerusalemme sua madre si chiamava Micaiah figliola di Uriel da Ghibea e ci fu guerra fra Abija e Geroboamo Abija entrò in guerra con un esercito di prodi guerrieri 400.000 uomini scelti e Geroboamo si dispose in ordine di battaglia contro di lui con 800.000 uomini scelti tutti forti e valorosi ed Abija si levò e disse dall'alto del monte Semarain che è nella contrada montuosa di Efraim o Geroboamo e tutto Israele ascoltatemi non dovreste voi sapere che l'eterno l'idio di Israele ha dato per sempre il regno sopra Israele a Davide e Davide ed ai suoi figlioli con un patto inviolabile eppure Geroboamo figliolo di Nebà servo di Salomone figliolo di Davide si è levato e si è ribellato contro il suo signore e della gente da nulla degli uomini perversi si sono raccolti intorno a lui e si sono fatti forti contro Roboamo figliolo di Salomone allorché Roboamo era giovane e timido di cuore e non poteva tener loro fronte ora ora voi credete di poter il regno dell'eterno che è nelle mani dei figlioli di Davide e siete una gran moltitudine e avete con voi i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha fatti per vostri dei non avete voi cacciati i sacerdoti dell'eterno i figlioli di Aron e di Leviti non vi siete voi fatti dei sacerdoti al modo dei popoli d'altri paesi chiunque è venuto con un giovenco o con sette montoni per essere consacrato è divenuto sacerdote di quelli che non sono dei quanto a noi l'eterno è nostro Dio e non l'abbiamo abbandonato i sacerdoti al servizio dell'eterno sono figlioli di Aron e i Leviti sono quelli che celebrano le funzioni ogni mattina e ogni sera essi adorano in onore dell'eterno e ardono gli olocausti e il profumo frangente mettono in ordine i panni della presentazione sulla tavola pura ed ogni sera accendono il candelabro d'oro con le sue lampade poiché noi osserviamo i comandamenti dell'eterno del nostro Dio ma voi l'avete abbandonato ed ecco noi abbiamo con noi alla nostra testa il Dio e i suoi sacerdoti e le trombe squillanti per sonare la carica contro di voi o figlioli di Israele non combattete contro l'eterno che è l'iddio dei vostri padri perché non vincerete intanto Geroboamo li prese per di dietro mediante un'imboscata in modo che le truppe di Geroboamo stavano in faccia a Giuda che aveva dietro l'imboscata quei di Giuda si voltano indietro ed eccoli costretti a combattere davanti e di dietro allora gridarono all'eterno e i sacerdoti dietro nelle trombe e la gente di Giuda mandò un grido e avvenne che al grido della gente di Giuda il Dio sconfisse Geroboamo e tutto Israele davanti ad Abija e a Giuda i figlioli di Israele fuggirono innanzi a Giuda e Dio li diede nelle loro mani Abija e il suo popolo ne fecero una grande strage dalla parte di Israele caddero morti cinquecentomila uomini scelti così i figlioli di Israele in quel tempo furono umiliati e i figlioli di Giuda ripresero vigore perché si era appoggiati sull'Eterno sull'Idio dei loro padri Abija inseguì Geroboamo e li prese delle città Betol e le città che ne dipendevano Jesham e le città che ne dipendevano Efraim e le città che ne dipendevano e Geroboamo al tempo di Abija non ebbe più forza e colpito dall'Eterno egli morì ma Abija venne potente prese quattro tordici mogli e generò ventidue figlioli e sedici figliole il resto delle azioni di Abija la sua condotta e le sue parole trovasi scritto nelle memorie del profeta Iddo e Abija si addormentò con suo padre e fu sepolto nella città di Davide e Asa suo figliolo regnò in luogo suo e al suo tempo il paese ebbe requie per dodici anni secondo libro delle cronache capitolo quattordicesimo Asa fece ciò che è buono eretto agli occhi dell'Eterno del suo Dio tolse via gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi spezzò le statue abbattegli idoli da starte e ordinò a Giuda di cercare l'Eterno l'Idio dei suoi padri e di mettere ad effetto la sua legge e i suoi comandamenti tolse anche via da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e le colonne solari e sotto di lui il regno ebbe requie egli costruì delle città fortificate in Giuda giacché il paese era tranquillo e in quegli anni non vera alcuna guerra contro di lui perché l'Eterno gli aveva dato requie egli diceva a quei di Giuda costruiamo queste città e circondiamole di mura di torri di porte di sbarre il paese è ancora a nostra disposizione perché abbiamo cercato l'Eterno il nostro Dio noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato riposo d'ogni intorno essi dunque si misero a costruire e prosperarono Asa aveva un esercito di trecentomila uomini di Giuda che portavano scudo e lancia e di duecentottantamila di Beniamino che portavano scudo e tiravano d'arco tutti uomini forti e valorosi Zera l'Etiopo uscì contro di loro con un esercito di un milione d'uomini e trecento carri e si avanzò fino a Marescia Asa gli mosse incontro e si dispose in ordine di battaglia nella valle di Zefata presso Marescia allora Asa invocò l'Eterno il suo Dio e disse O Eterno per te non vè differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza soccorrici o Eterno nostro Dio poiché su te noi ci appoggiamo e nel tuo nome noi siamo venuti contro questa moltitudine tu sei l'Eterno il nostro Dio non la vinca l'uomo a petto di te e l'Eterno sconfisse gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda e gli Etiopi si dettero alla fuga ed Asa e la gente che era con lui l'inseguirono fino a Gerar e degli Etiopi ne caddero tanti che non ne rimase più uno di vivo poiché furono rotti davanti all'Eterno e davanti al suo esercito e Asa e i suoi portarono via un immenso bottino e batterono tutte le città nei dintorni di Gera poiché lo spavento dell'Eterno si era impadronito di essi e quelli saccheggiarono tutte le città perché vera molto bottino fecero pure mambassa sui chiusi delle mandri e menarono via gran numero di pecore e di cammelli poi tornarono a Gerusalemme secondo libro delle cronache capitolo quindicesimo allora ma nella sua distretta e si è convertito all'Eterno all'Idio di Israele l'ha cercato ed egli si è lasciato trovare da lui in quel tempo non vera pace né per chi andava né per chi veniva perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi veran grandi agitazioni ed essi erano schiacciati nazione da nazione e città da città poiché l'Eterno li conturbava con ogni sorta di tribolazioni ma voi siete forti non vi lasciate in languidire le braccia perché l'opera vostra avrà la sua mercede quando Asa ebbe udite queste parole e la profezia del profeta Obed prese animo e fece sparire le abominazioni di tutto il paese di Giuda e di Beniamino e delle città che aveva prese nella contrada montuosa di Efraim e ristabilì l'altare dell'Eterno che era davanti al portico dell'Eterno poi radunò tutto Giuda e Beniamino e quelli di Efraim di Menasse e di Simeone che dimoravano fra loro giacché gran numero di quelli di Israele erano passati dalla sua parte vedendo che l'Eterno il suo Dio era con lui essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa e in quel giorno offrirono in sacrificio all'Eterno della preda che avevano portata settecento buoi e settemila pecore e convennero nel patto di cercare l'Eterno l'Idio dei loro padri con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro e chiunque non cercasse l'Eterno l'Idio di Israele doveva essere messo a morte grande o piccolo che fosse uomo o donna e si unirono per giuramento all'Eterno con gran voce e con acclamazioni al suono delle trombe e dei corni tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento perché avevano giurato di tutto cuore avevano cercato l'Eterno con grande ardore ed egli si era lasciato trovare da loro e l'Eterno dia del loro requed ogni intorno il re Asa destituì pure della dignità di regina a sua madre Maacca perché essa aveva rizzato un'immagine ad astarte e Asa battè l'immagine e la fece a pezzi e la bruciò presso il torrente Kidron non di meno gli altri luoghi non furono eliminati da Israele quantunque il cuore d'Asa fosse integro durante l'intera sua vita egli fece portare nella casa dell'Eterno le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate egli stesso argento oro vasi e non ci fu più guerra alcuna fino al trentacinquesimo anno del regno di Asa Secondo libro delle cronache capitolo sedicesimo l'anno trentesimo sesto del regno di Asa Ba'asa re d'Israele salì contro Giuda ed edificò Rama per impedire che alcuno andasse o venisse dalla parte di Asa re di Giuda allora Asa trasse dell'argento dell'oro dai tesori della casa dell'Eterno e della casa del re e inviò dei messi a Benadad re di Siria che abitava Damasco per dirgli sia vi alleanza fra me e te come vi fu tra il mio padre e il padre tuo ecco io ti mando dell'argento e dell'oro va rompi la tua alleanza con Ba'asa re d'Israele onde gli si ritiri da me e Benadad diede ascolto al re Asa mandò i capi del suo esercito contro le città d'Israele i quali espugnarono Yion Dan Abel Maim e tutte le città d'approvvigionamento di Neftali e quando Ba'asa ebbe udito questo cessò di edificare Rama e sospesse i suoi lavori allora il re Asa convocò tutti quei di Giuda e quei portarono via le pietre e le gname di cui Ba'asa era servito per la costruzione di Rama e con essi Asa edificò Geba e Mitzpa in quel tempo Anani il veggente si recò da Asa re di Giuda e gli disse poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sull'Eterno che è il tuo Dio l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani gli Etiopi e i Libi non formavano essi un grande esercito con una moltitudine immensa di carri cavalieri eppure l'Eterno perché ti eri appoggiato su lui li diede nelle tue mani poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegar la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui in questo tu hai uscito da insensato poiché da ora innanzi avrai delle guerre Asa si indegnò contro il leggente e lo fece mettere in prigione tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui e al tempo stesso Asa incredulì anche contro alcuni del popolo or ecco le azioni d'Asa le prime e le ultime si trovano scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele il trentanovesimo anno del suo regno Asa ebbe una malattia ai piedi la sua malattia fu gravissima e non di meno nella sua malattia non ricorse all'Eterno ma ai medici ed Asa si addormentò coi suoi padri morì il quarantunesimo anno del suo regno e fu sepolto nel sepolcro che gli aveva fatto scavare per sé nella città di Davide fu stesso sopra un letto pieno di profumi e di varie sorti di aromi composti con l'arte dei profumieri e ne bruciarono una grandissima quantità in onor suo secondo libro delle cronache capitolo dicesettesimo Giosafat figliuolo di Asa regnò in luogo di lui e si fortificò contro Israele collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e poste delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim e che Asa suo padre aveva conquistate e l'Eterno fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide suo padre aveva seguite da principio e cercò non i bali ma l'iddio di suo padre e si condusse secondo i suoi comandamenti senza imitare quel che faceva Israele perciò l'Eterno assicurò il possesso del regno delle mani di Giosafat tutto Giuda gli recava dei doni ed egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza il suo coraggio crebbe seguendo le vie dell'Eterno e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli d'Astarte il terzo anno del suo regno mandò i suoi capi Ben Ahil Obadia Zaccaria Natanaele e Micaiah a insegnare nelle città di Giuda e con essi mandò i leviti Shemaia Netania Zebadia Azahel Shimiramot Jonathan Adonia Tobia e Tob Adonia e i sacerdoti Elisiama e Joram ed essi insegnarono in Giuda avendo seco il libro della legge dell'Eterno percorsero tutte le città di Giuda istruirono il popolo il terrore dell'Eterno si impadronì di tutti i regni dei paesi che circondavano Giuda sicché non mossero guerra a Giosafat e una parte dei filistei recò a Giosafat dei doni e un tributo in argento anche gli arabi gli menarono del bestiame 7600 montoni e 7600 capri Giosafat raggiunse un alto grado di grandezza ed edificò in Giuda castelli città d'approvvigionamento fece seguire molti lavori nelle città di Giuda ed ebbe Gerusalemme dei guerrieri uomini forti e valorosi ecco nel censimento secondo le loro case patriarcali di Giuda di Giuda capi di migliaia Adna il capo con 300.000 uomini forti e valorosi dopo di lui Gionan il capo con 200.000 uomini dopo questo Amasia figliolo di Zicri il quale si era volontariamente consacrato all'Eterno con 200.000 uomini forti e valorosi di Beniamino Eliada uomo forte e valoroso con 200.000 uomini armati d'arco e di scudo e dopo di lui Giosabad con 130.000 uomini pronti per la guerra tutti questi erano al servizio del re senza contare quelli che aveva collocati nelle città fortificate in tutto il paese di Giuda secondo libro delle cronache capitolo diciottesimo Giosafat ebbe ricchezze e glorie in abbondanza e contrasse parentela con Aqab in capo a qualche anno scese a Samaria da Aqab e Aqab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e di buoi e lo indusse a salire contro Ramot di Galahad Aqab re di Israele disse a Giosafat re di Giuda vuoi venire con me a Ramot di Galahad Giosafat gli rispose fa conto di me come di te stesso della mia gente come della tua e verremo con te alla guerra e Giosafat disse al re di Israele ti prego consulta oggi la parola dell'Eterno allora il re di Israele radunò i profeti in numero di quattrocento e disse loro dobbiamo noi andare a far guerra a Ramot di Galahad o no quelli rispossero va e Dio la darà nelle tue mani o re ma Giosafat disse non ve egli qui alcun altro profeta dell'Eterno da poter consultare e il re di Israele rispose a Giosafat ve ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno ma io l'odio perché non mi predisce mai nulla di buono ma sempre del male è Micaiah il figliolo di Imla e Giosafat disse il re non dica così allora il re di Israele chiamò un enucco e gli disse fa venire presto Micaiah figliolo di Imla or il re di Israele Giosafat re di Giuda sedevano ciascuno sul suo trono vestiti dei loro abiti reali nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria e tutti i profeti provetavano dinanzi ad essi Sedakia figliolo di Canana si era fatto delle corna di ferro e disse così dice l'Eterno con queste corna darai di cozzo nei siri finché tu li abbia completamente distrutti e tutti i profeti provetavano nello stesso modo dicendo sali contro Ramoth di Gala e vincerai l'Eterno la darà nelle mani del re or il messo che era andato a chiamare Micaiah gli parlò così ecco i profeti tutti ad una voce predicano del bene dal re ti prego sia il tuo parlare come quello di ognuno d'essi e predisci del bene ma Micaiah rispose come vero che l'Eterno vive io dirò quel che l'Eterno mi dirà e come fu giunto dinanzi al re il re gli disse Micaiah dobbiamo 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 noi andare a far guerra al ramo di Galad o no quelli rispose andate pure e vincerete i nemici saranno dati nelle vostre mani e re gli disse quante volte dovrò io scongiurarti di non dirmi se non che la verità nel nome dell'Eterno e Micaiah rispose ho veduto tutto Israele disperso su per i monti come pecore che non hanno pastori e l'Eterno ha detto questa gente non ha padrone se ne torni ciascuno in pace a casa sua e il re d'Israele disse a Giosafat non te l'ho io detto che costui non mi predirebbe nulla di buono ma soltanto del male e Micaiah replicò perciò ascoltate la parola dell'Eterno io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito celeste che gli stava a destra e a sinistra e l'Eterno disse chi seduirà a Cabre d'Israele affinché salga Aramod Galad e vi perisca e uno rispose in un modo e l'altro in un altro allora si fece avanti uno spirito il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse lo sedurrò io e l'Eterno gli disse come quelli rispose io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca di tutti i suoi profeti e l'Eterno gli disse sì riuscirai a sedurlo esci e fa così ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti ma l'Eterno ha pronunziato del male contro di te allora Sedakia figliuolo di Cananah si accostò diede uno schiaffo a Micaiah e disse per dove è passato lo spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te e Micaiah e Micaiah rispose lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti e il re di Israele disse ai suoi servi prendete Micaiah menatelo da Amon governatore della città e da Gioas figliuolo del re e dite loro così dice il re mettete costui in prigione nutritelo di pan d'afflizione e d'acqua d'afflizione finché io ritorni sano e salvo Micaiah disse se tu ritorni sano e salvo non sarà l'Eterno quelli che avrà parlato per bocca mia e aggiunse udito questo o voi popoli tutti il re di Israele Giosafat re di Giuda saliron dunque contro Ramoth di Galat e il re di Israele disse a Giosafat io mi travestirò per andare in battaglia ma tu mettiti i tuoi abiti reali il re di Israele si travestì ed andarono in battaglia ora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai capitani dei suoi carri non combattete contro Verun piccolo o grande ma contro solo il re di Israele e quando i capitani dei carri scorsero Giosafat dissero quello è il re di Israele e lo circondarono per attaccarlo ma Giosafat mandò un grido e l'Eterno lo soccorse e Dio li attirò lungi da lui allora i capitani dei carri si accorsero che egli non era il re di Israele e cessarono da salirlo or qualcuno scoccò a caso la freccia del suo carro e ferì il re di Israele tra la corrazia e le falde onde il re disse al suo cocchiere volta menami fuori del campo perché son ferito ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro in faccia ai siri fino alla sera e sul tramontare del sole morì secondo libro delle cronache capitolo 19 Giosafat re di Giuda tornò sano e salvo a casa sua a Gerusalemme e il veggente Geu figliolo di Anani andò incontro a Giosafat e gli disse dovevi tu andare in aiuto ad un empio e amar quelli che odiano l'Eterno per questo fatto ha attirato su di te l'ira dell'Eterno non di meno si son trovate in te delle buone cose giacché hai fatti sparire dal paese d'idoli d'Astarte e hai applicato il tuo cuore nella ricerca di Dio Giosafat rimase a Gerusalemme poi fece di nuovo un giro fra il popolo da Bershiba alla contrada montuosa del Fraim e lo ricondusse all'Eterno l'iddio dei suoi padri e stabilite i giudici nel paese e tutte le città fortificate di Giuda città per città e disse ai giudici badate bene a quello che fate poiché voi amministrate la giustizia non per servire ad un uomo ma per servire all'Eterno il quale sarà con voi negli affari della giustizia ordunque il timore dell'Eterno sia con voi agite con circospezione poiché presso l'Eterno che è lì Dio nostro non ve né per servità né riguardo di qualità di persone né accettazione di doni Giusefat tornato che fu a Gerusalemme stabilì anche quivi dei leviti dei sacerdoti e dei capi delle casse patriarcali di Israele per rendere giustizia nel nome dell'Eterno e per sentenziare nelle liti e diede loro i suoi ordini dicendo voi farete così con timore dell'Eterno con fedeltà e con cuore integro in qualunque lite che vi sia portata dinanzi dai vostri fratelli dimoranti nelle loro città sia che si tratti di un omicidio di una legge di un comandamento di uno statuto di un precetto illuminateli affinché non si rendano colpevoli presso l'Eterno e li rasuono un piombi su voi e sui vostri fratelli così facendo voi non vi renderete colpevoli ed ecco il sommo sacerdote a Maria vi sarà preposto per tutti gli affari che concernono l'Eterno e Zebadia figliolo di Ismaele capo della casa di Giuda per tutti gli affari che concernono il re e avete la vostra disposizione dei leviti come magistrati fatevi cuore mettetevi all'opra e l'Eterno sia con l'uomo da bene secondo libro delle cronache capitolo ventesimo dopo queste cose i figlioli di Moab e i figlioli di Amon con loro demoniti mossero contro Giusefat per fargli guerra vennero dei messi ad informare Giusefat dicendo una gran moltitudine si avanza contro di te dall'altra parte del mare dalla Siria ed è giunta a Etzatzom Tamar che è En-Gedi e Giusefat ebbe paura si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda Giuda si radunò per implorare l'aiuto dall'Eterno e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare l'Eterno e Giusefat stando in piedi in mezzo alla radunanza di Giuda e di Gerusalemme nella casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo disse O Eterno Dio dei nostri padri non sei tu lì Dio dei cieli e non sei tu che signoreggi su tutti i regni delle nazioni non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza inguisa che nessuno ti può resistere non sei tu quelli o Dio nostro che cacciasti gli abitanti di questo paese dinanzi al tuo popolo di Israele e lo desti per sempre alla progenia di Abramo il quale ti amò e quelli l'hanno abitato e vanno edificato un santuario per il tuo nome dicendo quando ci incolga qualche calamità spada giudizio pesto caristia noi ci presenteremo dinanzi a questa casa e dinanzi a te poiché il tuo nome è in questa casa e a te crederemo nella nostra tribolazione e tu ci udrai e ci salverai ed ora ecco che i figlioli d'Ammo e di Moab e quei del monte di Seir delle terre nei quali non permettesti ad Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto ed egli lo lasciò da parte e non li distrusse eccoli che ora ci ricompensano venendo a cacciarci dell'eredità di cui ci hai dato il possesso o Dio nostro non farei tu giudizio di costoro poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che si avanza contro di noi e non sappiamo che fare ma gli occhi nostri sono su te e tutto Giuda perfino i bambini le mogli i figlioli stavano in pie davanti all'Eterno allora lo spirito dell'Eterno investì in mezzo alla radunanza di Asihel figliolo di Zaccaria figliolo di Benaia figliolo di Geriel figliolo di Mattania e Levita di tre figlioli di Asaf e Giazihel disse porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme e tuo re Giosafat così dice l'Eterno non temete non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine poiché questa non è battaglia vostra ma di Dio domani scendete contro di loro eccoli che vengono su per la salita di Tzitz e voi li troverete all'estremità della valle di rimpetto al deserto di Geruel questa battaglia non l'avete a combattere voi presentatevi tenetevi fermi e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà o Giuda o Gerusalemme non temete e non vi sgomentate domani uscite contro di loro e l'Eterno sarà con voi allora a Giosafat la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono dinanzi all'Eterno e l'adorarono e i leviti di tra i figlioli di Cheatiti e di tra i figlioli dei Corahiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno l'Idio di Israele la mattina seguente si levarono di buona ora si misero in cammino verso il deserto di Tecoa e come si mettevano in cammino Giosafat stando in piedi disse ascoltatemi o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme credete nell'Eterno che è l'Idio vostro e sarete al sicuro credete ai suoi profeti e trionferete e dopo aver tenuto consiglio con il popolo stabilì dei cantori che vestiti in santa magnificenza cantassero le lodi dell'Eterno e camminando alla testa dell'esercito dissero celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in perpetuo e come si cominciavano in canti di gioia e di lode l'Eterno tesi un'imboscata contro i figlioli di Amon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti i figlioli di Amon e di Moab assalirono gli abitanti del monte di Seir per votarle allo sterminio e distruggerli e quando ebbero annientati gli abitanti di Seir si diedero a distruggersi a vicenda e quando quei di Giuda furono giunti sull'altura dove si scorge il deserto volsero lo sguardo verso la moltitudine ed ecco i cadaveri che giacevano a terra nessuno poteva contarli nessuno era scampato allora Giusefata e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie e fra i cadaveri trovarono un'abbondanza di ricchezze di vesti di oggetti preziosi e se ne appropriarono più che potessero portare tre giorni misero a portar via il bottino che era copioso il quarto giorno si radunarono nella valle della benedizione dove benedissero l'Eterno per questo quel giorno è stato chiamato valle di benedizione fino ad oggi tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme con a capo Giusefata partirono con gioia per tornare a Gerusalemme perché l'Eterno li aveva ricolmi d'allegrezza liberandoli dai loro nemici ed entrarono in Gerusalemme nella casa dell'Eterno al suono dei salteri delle scetre e delle trombe e il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi quando udirono che l'Eterno aveva combattuto contro i nemici di Israele e il regno di Giosafat ebbe Reque il suo Dio gli diede pace d'ogni intorno così Giosafat regnò sopra Giuda aveva trentacinque anni quando cominciò a regnare e regnò venticinque anni a Gerusalemme e il nome di sua madre era Zuba figliuola di Scihi ed egli camminò per le vie di Asa suo padre e non se ne allontanò facendo quel che è giusto agli occhi dell'Eterno non di meno gli altri luoghi non scomparvero perché il popolo non aveva ancora il cuore fermamente unito all'iddio dei suoi padri ora il rimanente delle azioni di Giosafat le prime e le ultime si trovano scritte nella storia di Geu figliuolo di Hamani inserta nel libro dei re di Israele dopo questo Giosafat re di Giuda si associò col re di Israele a Cazia che aveva una condotta empia e se lo associò per costruire delle navi che andassero a Tarsis e le costruirono a Ezion Geber allora Eliezer figliuolo di Dodovà da Marescia profetizzò contro Giosafat dicendo perché ti sei associato con Cazia l'Eterno ha disperse le opere tue e le navi furono infrante e non poterono fare il viaggio di Tarsis secondo libro delle cronache capitolo ventunesimo e Giosafat s'addormentò coi suoi padri e con essi fu sepolto nella città di David e Gehoram suo figliuolo regnò in suo luogo Gehoram aveva dei fratelli figliuoli di Giosafat Azaria Jeihel Zaccaria Azaria Hu Micael Shephatia tutti questi erano figliuoli di Giosafat re di Israele e il padre loro aveva fatto ad essi grandi doni d'argento d'oro e di cose preziose con delle città fortificate in Giuda ma aveva scelto e lasciato il regno a Gehoram perché era il primo genito or quando Gehoram ebbe preso possesso del regno di suo padre e vi si fu solidamente stabilito fece morire di spada tutti i suoi fratelli come pure alcuni dei capi di Israele Gehoram aveva trentadue anni quando cominciò a regnare e regnò otto anni in Gerusalemme camminò per la via dei re di Israele come aveva fatto la casa di Acab poiché aveva per moglie una figliuola di Acab e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno non di meno l'Eterno non volle distruggere la casa di Davide a motivo del patto che aveva formato con Davide e della promessa che aveva fatta di lasciare sempre una lampada a lui e dai suoi figliuoli ai tempi di lui Edom si ribellò sottraendosi al gioco di Giuda e si dette un re allora Gehoram partì con i suoi capi e con tutti i suoi carri e levatosi di notte sconfisse gli edomiti che l'avevan circondato e i capi dei carri così Edom si è ribellato sottraendosi al gioco di Giuda fino al di Doji in quel medesimo tempo anche Libna si ribellò e si sottrasse al gioco di Giuda perché Gehoram aveva abbandonato l'Eterno l'Idio dei suoi patri Gehoram fece anche egli degli altiluoghi sui monti di Giuda spinse gli abitanti di Gerusalemme alla prostituzione e sviò Giuda e gli giunse uno scritto da parte del profeta Elia che diceva Così dice l'Eterno l'Idio di Davide tuo padre perché tu non hai camminato per le vie di Giosaf a tuo padre per le vie d'Asa re di Giuda ma hai camminato per la via dei re di Israele perché hai spinto alla prostituzione Giuda e gli abitanti di Gerusalemme come la casa di Acab va spinto Israele e perché hai ucciso i tuoi fratelli membri della famiglia di tuo padre che erano migliori di te ecco l'Eterno colpirà con una gran piaga il tuo popolo i tuoi figlioli le tue mogli e tutto quello che ti appartiene e tu avrai una grave malattia una malattia di intestini che ti inaspirà di giorno in giorno finché gli intestini ti vengano fuori per effetto del male e l'Eterno risvegliò contro Gehoran lo spirito dei filistei e degli arabi che confinavano con gli etiopi ed essi salirono contro Giuda l'invasero e portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re e anche i suoi figlioli e le sue mogli in guisa che non gli rimase altro figliolo se non Gehoran che era più piccolo dopo tutto questo l'Eterno lo colpì con una malattia incurabile di intestini e con l'andare del tempo verso la fine del secondo anno gli intestini gli vennero fuori in seguito alla malattia e morì in mezzo ad atroci sofferenze e il suo popolo non bruciò profumi in onore di lui come avevano fatto per i suoi padri aveva trentadue anni quando cominciò a regnare e regnò otto anni in Gerusalemme se ne andò senza essere rimpianto e fu sepolto nella città di Davide ma non nei sepolcri dei re secondo libro delle cronache capitolo ventiduesimo gli abitanti di Gerusalemme in luogo di Jehoram proclamarono re Acazia il più giovane dei suoi figlioli poiché la truppa che era entrata con gli arabi nel campo aveva ucciso tutti i più grandi d'età così regnò Acazia figliolo di Jehoram re di Giuda Acazia aveva quarantadue anni quando cominciò a regnare e regnò un anno in Gerusalemme sua madre si chiamava Atalia figliola di Omri anche egli camminò per le vie della casa di Acazia perché sua madre che era sua consigliera lo spingeva ad agire impiamente egli fece sciocche male agli occhi dell'Eterno come quei della casa di Acazia perché dopo la morte di suo padre questi furono suoi consiglieri per sua rovina e fu pure dietro loro consiglio che egli andò con Jehoram figliolo di Acav re di Israele a combattere contro Azahel re di Siria a Ramot di Galaad e i siri ferirono Jehoram e questi tornò a Jetril per farsi curare delle ferite che aveva ricevute dai siri a Ramat quando combatteva contro Azahel re di Siria ed Acazia figliolo di Jehoram re di Giuda scese a Jetril a vedere Jehoram figliolo di Acav perché questi era malato or fu volontà di Dio che Acazia per sua rovina si recasse da Jehoram perché quando fu giunto uscì con Jehoram contro Jehu figliolo di Nimshi che l'Eterno aveva unto per sterminare la casa di Acav e come Jehu faceva giustizia della casa di Acav trovò i capi di Giuda e i figlioli dei fratelli di Acazia che erano a servizio di Acazia e li uccise e fece cercare Acazia che si era nascosto in Samaria e Acazia fu preso e menato a Jehu e messo a morte e poi seppellito perché si diceva è figliolo di Josafat che cercava l'Eterno con tutto il cuor suo e nella casa di Acazia non rimase più alcuno che fosse capace di regnare or quando Atalia madre di Acazia vide che il suo figliolo era morto si levò e distrusse tutta la stirpe reale della casa di Giuda ma Jehochebet figliolo del re prese Joas figliolo di Acazia lo trafugò di mezzo ai figlioli del re che erano messi a morte e lo pose con la sua balea nella camera dei letti così Jehochebet figliola del re Jehoram moglie del sacerdote Jehoiada che era sorella di Acazia lo nascose alle ricerche di Atalia che non lo mise a morte ed egli rimase nascosto presso di loro nella casa di Dio per sei anni intanto Atalia regnava sul paese secondo libro delle cronache capitolo ventitreesimo il settimo anno Jehoiada fattosi animo fece lega coi capi centurie Azaria figliolo di Jehoram Ismaele figliolo di Jeohanan Azaria figliolo di Obed Maaseia figliolo di Adahia e Elishafat figliolo di Zieri essi percorsero Giuda radunarono i leviti di tutte le città di Giuda e i capi delle case patriarcali di Israele e vennero a Gerusalemme e tutta la raunanza strinse lega con il re nella casa di Dio e Jehoiada disse loro ecco il figliolo del re regnerà come l'Eterno ha promesso relativamente ai figlioli di Davide ecco quello che voi farete un terzo di quelli tra voi che entrano in servizio il giorno del sabato sacerdoti e leviti starà di guardia alle porte del tempio un altro terzo starà nella casa del re e l'altro terzo alla porta di Yesol tutto il popolo starà nei cortili della casa dell'Eterno ma nessuno entri nella casa dell'Eterno tranne i sacerdoti e i leviti di servizio questi entreranno poiché sono consacrati ma tutto il popolo s'atterrà all'ordine dell'Eterno i leviti circonderanno il re da ogni lato ognuno con le armi alla mano e chiunque cercherà di penetrare nella casa di Dio sia messo a morte e voi starete col re quando entrerà e quando uscirà i leviti e tutto Giuda eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Geoiada ognuno d'essi prese i suoi uomini quelli che entravano in servizio il giorno di sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato poiché il sacerdote Geoiada non aveva licenziato le mute uscenti il sacerdote il sacerdote Geoiada diede ai capi centurie le lance e le targhe e gli scudi che avevano appartenuto a Davide e si trovavano nella casa di Dio e dispose tutto il popolo intorno al re ciascuno con l'arma in mano dal lato destro al lato sinistro della casa presso all'altare e presso la casa allora menarono fuori il figliolo del re gli posero in testa il diadema gli consegnarono la legge e lo proclamarono re Geoiada e i suoi figlioli lo unsero ed esclamarono viva il re or quando Atalia udì il rumore del popolo che accorreva ed acclamava il re andò verso il popolo nella casa dell'Eterno guardò ed ecco che il re stava in piedi sul suo palco all'ingresso i capitani e i trombettieri erano accanto al re tutto il popolo del paese era in festa e suonavano le trombe e i cantori con i loro strumenti musicali dirigevano i canti di lode allora Atalia si stracciò le vesti e gridò congiura congiura ma il sacerdote Geoiada fece venire fuori i capi centurie che comandavano l'esercito e disse loro fatela uscire di tra le file e chiunque la seguirà sia ucciso di spada poiché il sacerdote aveva detto non sia messa a morte nella casa dell'Eterno così quelli le fecero largo ed ella giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e qui fu uccisa e Geoiada fermò tra sé tutto il popolo ed il re erupato per il quale Israele doveva essere il popolo dell'Eterno e tutto il popolo entrò nel tempio di Baal e lo demolì fece interamente in pezzi i suoi altari e le sue immagini e uccise dinanzi agli altari Matan sacerdote di Baal poi Geoiada affidò la sorveglianza della casa dell'Eterno ai sacerdoti levitici che Davide aveva ripartiti in classi preposti alla casa dell'Eterno per offrire olocausti all'Eterno come scritto nella legge di Mosè e con gioia e con canto di lodi secondo le disposizioni di Davide e collocò i portinai alle porte della casa dell'Eterno affinché nessuno ventrasse che fosse impuro per qualsivoglia ragione e prese i capi centurie gli uomini riguardevoli quelli che avevano autorità sul popolo e tutto il popolo del paese e fece scendere il re dalla casa dell'Eterno entrarono nella casa del re alla porta superiore e fecero sedere il re sul trono reale e tutto il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa di spada Secondo libro delle cronache capitolo ventiquattresimo Joas aveva sette anni quando cominciò a regnare e regnò quarant'anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Zibia da Beershiba Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Geoiada e Geoiada prese per lui due mogli delle quali egli ebbe dei figlioli e delle figliole dopo queste cose venne in cuore a Joas di restaurare la casa dell'Eterno radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro andate per le città di Giuda e raccogliete anno per anno in tutto Israele del denaro per restaurare la casa dell'Idio vostro e guardate di sollecitar la cosa ma i leviti non si affrettarono allora il re chiamò Geoiada loro capo e gli disse perché non hai tu procurato che i leviti portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa che Mosè servo dell'Eterno e la radunanza di Israele stabilirono per la tenda della testimonianza poiché i figlioli di questa scelerata donna d'Atalia avevano saccheggiata la casa di Dio avevano perfino adoperato per i bali tutte le cose consacrate della cassa dell'Eterno il re dunque comandò che si facesse una cassa e che la si mettesse fuori alla porta della cassa dell'Eterno poi fu intimato in Giuda e in Gerusalemme che si portasse all'Eterno la tassa che Mosè servo di Dio aveva imposta ad Israele nel deserto e tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portarono il danaro e lo gettarono nella cassa finché tutti ebbero pagato or quando era il momento che le viti dovevano portare la cassa agli ispettori reali perché vedevano che aveva molto denaro il segretario del re e il commissario del sommo sacerdote venivano a votare la cassa la prendevano poi la riportavano al suo posto e facevano così ogni giorno e raccorsero denaro in abbondanza e il re e Geoiada lo davano a quelli incaricati di eseguire i lavori della cassa dell'eterno e questi pagavano gli scalpellini e delle gnaiuoli per restaurare la cassa dell'eterno e anche dei lavoratori di ferro e di rame per restaurare la cassa dell'eterno così gli incaricati dei lavori si misero all'opera per le loro mani furono compiute le riparazioni essi rimisero la cassa di Dio in buon stato e la consolidarono e quando ebbero finito portarono davanti al re e davanti a Geoiada il rimanente del denaro col quale si fecero degli utensili per la cassa dell'eterno degli utensili per il servizio e per gli olocausti delle coppe e degli utensili d'oro e d'argento e durante tutta la vita di Geoiada si offrirono del continuo olocausti nella cassa dell'eterno ma Geoiada fattosi vecchio e sazio di giorni morì quando morì aveva centotrent'anni e fu sepolto nella città di Davide con il re perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa dopo la morte di Geoiada i capi di Giuda vennero al re e si prostrarono dinanzi a lui allora il re di loro ascolto ed essi abbandonarono la casa dell'eterno dell'iddio dei loro padri servirono gli idoli di Astarte e gli altri idoli e questa loro colpa trasse l'ira dell'eterno su Giuda e su Gerusalemme l'eterno mandò loro bensì dei profeti per ricondurli a sé e questi protestarono contro la loro condotta ma essi non vollero ascoltarli allora lo spirito di Dio investì Zaccaria figliuolo del sacerdote Geoiada il quale in pie dominando il popolo disse loro così dice Dio perché trasgredite voi i comandamenti dell'eterno voi non presprerete poiché avete abbandonato l'eterno e anche egli vi abbandonerà ma quelli fecero una congiura contro di lui lo lapidarono per ordine del re nel cortile della casa dell'eterno il re Gioas non si ricordò della benevolenza usata verso di lui da Geoiada padre di Zaccaria e gli uccise il figliuolo il quale morendo disse l'eterno lo veda e ne ridomandi conto e avvenne che scorso l'anno l'esercito dei siri salì contro Gioas venne in Giudea e a Gerusalemme essi misero a morte fra il popolo tutti i capi e ne mandarono tutte le spoglie al re di Damasco e benché l'esercito dei siri fosse venuto con piccolo numero d'uomini pure l'eterno diè loro nelle mani un esercito grandissimo perché quelli avevano abbandonato l'eterno il dio dei loro padri così i siri fecero giustizia di Gioas e quando questi si furono partiti da lui lasciandolo in gravi sofferenze i suoi servi ordirono contro di lui una congiura perché gli aveva versato il sangue dei figliuoli del sacerdote Geoiada e lo uccisero nel suo letto così morì e fu sepolto nella città di Davide ma non nei sepolcri del re quelli che congiurarono contro di lui furono Zabat figliolo di Shimeat un ammonita e Giozabad figliolo di Shimrit una moabita or quando concerne i suoi figliuoli il gran numero di tributi imposteli il restauro della casa di Dio si trova scritto nelle memorie del libro dei re e Amazia suo figliuolo regnò in luogo suo secondo libro delle cronache capitolo venticinquesimo Amazia aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò ventinove anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Geoadan da Gerusalemme egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno ma non di tutto cuore or come il regno fu ben assicurato nelle sue mani egli fece morire quei servi suoi che avevano ucciso il re suo padre ma non fece morire i loro figliuoli conformandosi a quello che è scritto nella legge del libro di Mosè dove l'Eterno ha dato questo comandamento i padri non saranno messi a morte a cagione dei figliuoli né i figliuoli saranno messi a morte a cagione dei padri ma ciascuno sarà messo a morte a cagione del proprio peccato poi Amazia radunò quei di Giuda e li distribuì secondo le loro case patriarcali sotto i capi di migliaia sotto i capi di centinaia per tutto Giuda e Beniamino non fece il censimento dall'età di venti anni in su e trovò trecentomila uomini scelti atti alla guerra capaci di maneggiare la lancia e lo scudo e assoltò anche centomila uomini di Israele forti e valorosi per cento talenti d'argento ma un uomo di Dio venne a lui e gli disse ore l'esercito di Israele non va da teco poiché l'Eterno non è con Israele con tutti questi figlioli di Efraim ma se vuoi andare portati pure valorosamente nella battaglia ma e Dio ti abbatterà dinanzi al nemico perché Dio ha il potere di soccorrere e di abbattere Amazia disse all'uomo di Dio e che fare circa quei cento talenti che ho dati all'esercito di Israele e l'uomo di Dio rispose l'Eterno è in grado di darti molto più di questo allora Amazia separò l'esercito che gli era venuto da Efraim affinché se ne tornasse al suo paese ma questa gente fu gravemente irritata contro Giuda e se ne tornò a casa a Cesa d'Ira Amazia preso animo si mise alla testa del suo popolo e andò nella valle del sale e sconfisse diecimila uomini dei figlioli di Ser e i figlioli di Giuda ne catturarono vivi altri diecimila li menarono in cima alla rocca e li precipitaron giù dall'alto della rocca sì che tutti rimasero sfragellati ma gli uomini dell'esercito che Amazia aveva licenziati perché non andassero seco alla guerra piombarono sulle città di Giuda da Samaria fino a Bet-Orom ne uccisero tremila abitanti e portarono via molta preda e Amazia tornato che fu dalla sconfitta degli Dumei si fece portare gli dei dei figlioli di Ser li stabilì come i suoi dei si prostrò dinanzi ad essi e bruciò dei profumi in loro onore perché l'Eterno s'accese d'ira contro Amazia e gli mandò un profeta per dirgli perché hai tu cercato gli dei di questo popolo che non hanno liberato il popolo loro dalla tua mano e mentre gli parlava al re questo gli disse t'abbia noi forse fatto consigliere del re vattene perché vorresti essere ucciso allora il profeta se ne andò dicendo io so che Dio ha deciso di distruggerti perché hai fatto questo e non l'hai dato ascolto al mio consiglio allora Amazia re di Giuda dopo aver preso consiglio inviò dei messi a Gioas figliolo di Gioahes figliolo di Geud re di Israele per dirgli vieni mettiamoci a faccia a faccia e Gioas re di Israele fece dire ad Amazia re di Giuda lo spino del Libano mandò a dire al centro del Libano dalla tua figliola per moglie al mio figliolo ma le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono lo spino tu hai detto ecco io ho sconfitto gli Dumei e il tuo cuore si è reso orgoglioso ti ha portato a gloriarti stati nella casa tua perché impegnarti in una disgraziata impresa che menerebbe alla rovina te e Giuda con te ma Amazia non gli volle dar retta perché la cosa era diretta da Dio affinché fossero dati in mano del nemico perché avevano cercato gli dei di Edom allora Gioas re di Israele salì ed egli ed Amazia re di Giuda si trovarono faccia a faccia a Bet Shemesh che apparteneva a Giuda Giuda rimase sconfitto da Israele e quei di Giuda fuggirono ognuno alla sua tenda e Gioas re di Israele fece prigioniero a Bet Shemesh Amazia re di Giuda figliolo di Gioas figliolo di Giohas e lo menò a Gerusalemme e fece una breccia di quattrocento cubiti nelle mura di Gerusalemme dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo e prese tutto l'oro e tutto l'argento e tutti i vasi che si trovarono nella casa di Dio in custodia di Obed Edom e i tesori della casa del re prese pure gli ostaggi e se ne tornò a Samaria Amazia figliolo di Gioas e di Giuda visse ancora quindici anni dopo la morte di Gioas figliolo di Giohas e di Israele il rimanente delle azioni di Amazia le prime e le ultime si trova scritto nel libro dei re di Giuda e di Israele dopo che Amazia ebbe abbandonato l'Eterno fu ordita contro di lui una congiura a Gerusalemme ed egli fuggì all'Achis ma lo fecero inseguire fino all'Achis e qui vi fu messo a morte di là fu trasportato sopra cavalli e quindi sepolto coi suoi padri nella città di Giuda secondo libro delle cronache capitolo ventiseiesimo allora tutto il popolo di Giuda prese Uzzia che aveva allora sedici anni e lo fecere in luogo di Amazia suo padre egli riedificò Elot e la riconquistò a Giuda dopo che il re si fu addormentato coi suoi padri Uzzia aveva sedici anni quando cominciò a regnare e regnò cinquantadue anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Iecolia ed era di Gerusalemme egli fece sciocche e giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Amazia suo padre si die con diligenza a cercare di Dio mentre visse Zaccaria che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio e finché cercò l'Eterno il Dio lo fece prosperare egli uscì e mosse guerra ai Filistei abbatté le mura di Gat le mura di Iabne e le mura di Asdod ed edificò delle città nel territorio di Asdod e in quello dei Filistei ed Dio gli diede aiuto contro i Filistei contro gli Arabi che abitavano a Gur Baal e contro i Maoniti e gli Amoniti pagavano un tributo ad Uzzia e la sua fama si sparse sino ai confini dell'Egitto perché era divenuto potentissimo Uzzia costruì pure delle torri a Gerusalemme sulla porta dell'angolo sulla porta della valle sullo svolto e le fortificò costruì delle torri nel deserto e scavò molte cisterne perché aveva gran quantità di bestiame e ne scavò pure nella parte bassa del paese e nella pianura ed aveva dei lavoranti e dei vignoiuoli per i monti e nelle terre fruttifere perché amava l'agricoltura Uzzia aveva inoltre un esercito di combattenti che andava alla guerra per schiere composte secondo il numero del censimento fattone dal segretario Ieiel e dal commissario Maazzeia e messe sotto il comando di Annania uno dei generali del re il numero totale dei capi delle case patriarcali degli uomini forti e valorosi era di 2600 essi avevano a loro comando un esercito di 307.500 combattenti atti ad entrare in guerra con gran valore per sostenere il re contro il nemico Euzia fornia a tutto l'esercito scudi lance elmi corraze archi e fionde per scagliare sassi e fece fare a Gerusalemme delle macchine inventate da ingegneri per collocarle sulle torri e sugli angoli per scagliare saette e grosse pietre la sua fama andò lungi perché egli fu meravigliosamente soccorso finché divenne potente ma quando fu divenuto potente il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno e il suo Dio entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con ottanta sacerdoti dell'Eterno uomini coraggiosi i quali si opposero al re Euzia e gli dissero non spetta a te Euzia di offrire dei profumi all'Eterno ma i sacerdoti e figlioli di Aronne che sono consacrati per offrire i profumi esci dal santuario poiché tu hai commesso un'infedeltà e questo non ti tornerà gloria dinanzi a Dio all'Eterno allora Uzzia che teneva in mano un turibolo per offrire il profumo si adirò e mentre si adirava contro i sacerdoti la lebra gli scoppiò sulla fronte in presenza dei sacerdoti nella casa dell'Eterno presso all'altare dei profumi il sommo sacerdota Zaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono ed ecco che aveva la lebra sulla fronte lo fecero uscire precipitosamente ed egli stesso si affrettò ad andarsene fuori perché l'Eterno l'aveva colpito il re Uzzia fu lebroso fino al giorno della sua morte e stette nell'infermeria come lebroso perché era escluso dalla casa dell'Eterno e Iotan suo figliuolo era capo della casa reale e rende giustizia al popolo del paese il rimanente delle azioni di Uzzia le prime e le ultime è stato scritto dal profeta Isaia figliuolo di Amaz Uzzia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri nel campo delle sepolture destinato al re perché si diceva l'Ebroso e Iotan suo figliuolo regnò in luogo suo secondo libro delle cronache capitolo ventisettesimo Iotan aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni in Gerusalemme sua madre si chiamava Ierusha figliuola di Tzadok egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Zia suo padre soltanto non entrò nel tempio dell'Eterno e il popolo continuava a corrompersi egli costruì la porta superiore della casa dell'Eterno e fece molti lavori sulle mura di Ophel costruì parimente delle città nella contrada montuosa di Giuda e dei castelli e delle torri nelle foreste e mosse guerra al re dei figlioli di Amon e vinse gli Amoniti i figlioli di Amon gli diedero quell'anno cento talenti d'argento e diecimila cori di grano e diecimila d'orso ed altrettanto gli pagarono il secondo e il terzo anno così Iotan divenne potente poiché camminò con costanza nel cospetto dell'Eterno del suo Dio il rimanente delle azioni di Iotan tutte le sue guerre le sue imprese si trovano scritte nel libro dei re di Israele e di Giuda aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme e Iotan si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide e Acas suo figliuolo regnò in luogo suo secondo libro delle cronache capitolo ventottesimo Acas aveva vent'anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno come aveva fatto Davide suo padre ma seguì la via dei re di Israele e fece perfino delle immagini di getto per i bali bruciò dei profumi nella valle del figliuolo di Inom e arse i suoi figliuoli nel fuoco seguendo le abominazioni delle gente che l'Eterno aveva cacciate dinnanzi ai figliuoli di Israele e offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante perciò l'Eterno il suo Dio lo diede nelle mani del re di Siria e i siri lo sconfissero e li presero un gran numero di prigionieri che menarono a Damasco e fu anche dato in mano del re di Israele che gli influisse una grande sconfitta infatti Pecca figliuolo di Re Malia uccise in un giorno in Giuda centoventimila uomini tutta gente valorosa perché avevano abbandonato l'Eterno l'Iddio dei loro padri Sicri un prode di Efraim uccise Maaseia figliuolo del re Adricam maggiordomo della casa reale ed Elcana che teneva il secondo posto dopo il re e i figliuoli di Israele menarono via di tra i loro fratelli duecentomila prigioni fra donne figliuoli e figliuole e ne trassero pure una gran preda che portarono a Samaria oh vera qui un profeta dell'Eterno per nome Oded egli uscì incontro l'esercito che tornava a Samaria e disse loro ecco l'Eterno l'Iddio dei vostri padri nella sua ira contro Giuda ve li ha dati nelle mani e voi li avete uccisi con tal furore che è giunto fino al cielo ed ora pretendete di sottomettervi come schiavi e come schiave i figliuoli e le figliuoli di Giuda e di Gerusalemme ma voi voi stessi non siete forse colpevoli verso l'Eterno verso l'Iddio vostro ascoltatemi dunque e rimandate i prigionieri che avete fatti tra i vostri fratelli perché l'ardente ira dell'Eterno vi sovrasta allora alcuni tra i capi dei figlioli di Efraim Azaria figliuolo di Ionanam Becheria figliuolo di Meschile Mot e Zacchia figliuolo di Shalun e Amasa figliuolo di Adlai sorsero contro quelli che tornavano dalla guerra e dissero loro voi non menerete qua dentro i prigionieri perché voi vi proponete cosa che ci renderà colpevole dinanzi all'Eterno accrescendo il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe poiché noi siamo già grandemente colpevoli e l'ira dell'Eterno arde contro Israele allora i soldati abbandonarono i prigionieri e la preda in presenza dei capi e di tutta la radunanza e gli uomini già ricordati per nome si elevarono e presero i prigionieri del bottino e si servirono per rivestire tutti quelli di loro che erano ignudi li rivestirono e li calzarono dietro loro da mangiare e da bere li unsero condussero sopra degli asini tutti quelli che cascavano dalla fatica e li menarono a Gerico la città delle palme e dai loro fratelli poi se ne tornarono a Samaria in quel tempo il re Acas mandò a chiedere soccorso al re da Siria ora gli Edomiti erano venuti di nuovo avevano sconfitto Giuda e menati via dei prigionieri i filistei pure avevano invaso le città della pianura e del mezzogiorno di Giuda e avevano preso Besh Shemesh Ayalom Gedarot Soko e le città che ne dipendevano Timna e le città che ne dipendevano Gimzo e le città che ne dipendevano e vi serano stabiliti poiché l'Eterno aveva umiliato Giuda a motivo di Acas re di Israele perché aveva rotto ogni freno in Giuda e aveva commesso ogni sorta di infedeltà contro l'Eterno e Tilgad Pionezer re d'Assiria mosse contro di lui lo ridusse alle strette e non lo sostegna affatto poiché Acas aveva spogliato la casa dell'Eterno la casa dei re e dei capi e aveva dato tutto al re d'Assiria ma nulla gli era giovato e nel tempo in cui si trovava alle strette questo medesimo re Acas continuò più che mai a commettere delle infedeltà contro l'Eterno offrì dei sacrifici agli dei di Damasco che l'avevano sconfitto e disse già che gli dei dei re di Siria aiutano quelli io offrino loro dei sacrifici ed aiuteranno anche me ma furono invece la rovina di lui e di tutto Israele Acas radunò gli utensili della casa di Dio fece a pezzi gli utensili della casa di Dio chiuse le porte della casa dell'Eterno si fece degli altari in tutte le cantonate di Gerusalemme e stabilì degli alti luoghi in ognuna delle città di Giuda per offrire dei profumi ad altri dei così provocò a dire all'Eterno l'iddio dei suoi padri e il rimanente delle sue azioni di tutti i suoi portamenti primi e gli ultimi si trova scritto nel libro del re di Giude di Israele e Acas si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in città a Gerusalemme perché non lo volero mettere nei sepolcri del re di Israele ed Ezechia suo figliuolo regnò in luogo suo secondo libro delle cronache capitolo ventinove Ezechia aveva venticinque anni quando cominciò a regnare regnò ventinove anni a Gerusalemme sua madre si chiamava Abbia figliuola di Zaccaria e gli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Davide suo padre nel primo anno del suo regno nel primo mese riaperte le porte della casa dell'Eterno e le restaurò fece venire i sacerdoti e i leviti li radunò sulla piazza orientale e disse loro ascoltatemi o leviti ora santificatevi e santificate la casa dell'Eterno dell'Iddio dei vostri padri e portate fuori dal santuario ogni immondizia poiché i nostri padri sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno dell'Iddio nostro l'hanno abbandonato hanno cessato di volgere la faccia verso la dimora dell'Eterno e le han voltato le spalle ed hanno chiuse le porte del portico hanno spente le lampade non hanno più bruciato profumi né offerto locausti nel santuario dell'Iddio di Israele perciò l'Ira dell'Eterno ha colpito Giù del Gerusalemme e li ha abbandonati alle vessazioni e alla desolazione e ad ogni scherni come vedete con gli occhi vostri ed ecco che a causa di questo i nostri padri sono periti di spada e i nostri figliuoli le nostre figliuole le nostre moglie sono in cattività or io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno con l'Iddio di Israele affinché l'ardore della sua ira sia lontani da noi figliuoli miei non siate negligenti poiché l'Eterno vi ha scelti affinché siate davanti a Lui per servirgli per essere Suo ministri e per offrirgli profumi allora i Leviti si levarono Mahat figliuolo di Amasai Johel figliuolo di Azaria dei figliuoli di Kehat dei figliuoli di Merari Kish figliuolo di Abdi Azaria figliuolo di Je'al-Ariel dei Gersioniti Gioat figliuolo di Zima ed Eden figliuolo di Gioa dei figliuoli di Listafan Shimri e Je'iel dei figliuoli di Asafan Zaccaria e Metania dei figliuoli di Eman Je'iel e Shimei dei figliuoli di Jedut Shemaia e Uziel ed essi adunarono i loro fratelli e dopo essersi santificati vennero a purificare la casa dell'Eterno secondo l'ordine del Re conformemente alle parole dell'Eterno e i sacerdoti entrarono nell'interno della casa dell'Eterno per purificarla e portarono fuori nel cortile della casa dell'Eterno tutte le immondezze che trovarono nel Tempio dell'Eterno e i Leviti le presero e le portarono fuori e gettarle nel torrente Kidron cominciarono queste purificazioni il primo giorno del primo mese e l'ottavo giorno dello stesso mese vennero al portico dell'Eterno e misero otto giorni a purificare la casa dell'Eterno il sedicesimo giorno del primo mese avevano finito allora vennero al re Ezechia nel suo palazzo e gli dissero noi abbiamo purificato tutta la casa dell'Eterno l'altare degli olocausti con tutti i suoi utensili la tavola dei panni della presentazione con tutti i suoi utensili come pure abbiamo rimesso in buono stato e purificati tutti gli utensili che il re a casa aveva profanati durante il suo regno quando si rese infedele ed ecco stanno davanti all'altare dell'Eterno allora Ezechia levatosi di buonora ad uno ai capi della città e salì alla casa dell'Eterno essi menarono sette giovenchi sette montoni sette agnelli e sette capri come sacrificio per il peccato a pro del regno del santuario di Giuda e il re ordinò ai sacerdoti figlioli da Aronne d'offrirli sull'altare dell'Eterno i sacerdoti scannarono i giovenchi e ne raccolsero il sangue e lo sparsero sull'altare scannarono i montoni e ne sparsero il sangue sull'altare e scannarono gli agnelli e ne sparsero il sangue sull'altare poi menarono i capri del sacrificio per il peccato davanti al re e alla radunanza e questi posero su dessi le loro mani i sacerdoti li scannarono e ne offrirono il sangue sull'altare come sacrificio per il peccato per fare l'espiazione dei peccati di tutto Israele già che il re aveva ordinato che si offrisse l'olocausto e il sacrificio per il peccato a pro di tutto Israele il re stabilì i leviti nella casa dell'eterno con cembali con salteri con cetre secondo l'ordine di Davide e di Gat il veggente del re e del profeta Natan poiché tale era il comandamento dato dall'eterno per mezzo dei suoi profeti e i leviti presero il loro posto con gli strumenti di Davide e i sacerdoti con le trombe e allora Ezechia ordinò che si offrisse l'olocausto sull'altare e nel momento in cui si cominciò l'olocausto cominciò pure il canto dell'eterno e il suono delle trombe con l'accompagnamento degli strumenti di Davide re di Israele e tutta la radunanza si prostrò e i cantori cominciarono a cantare e le trombe a suonare e tutto questo continuò sino alla fine dell'olocausto e quando l'offerta dell'olocausto fu finita il re e tutti quelli che erano con lui si inchinarono e si prostrarono poi il re Ezechia e i capi ordinarono ai leviti di celebrare le loti dell'eterno con la parola di Davide e del veggente Asaf e quelli le celebrarono con gioia e si inchinarono e si prostrarono allora Ezechia prese a dire ora che vi siete consacrati all'eterno avvicinatevi e offrite vittime e sacrifici di lode nella casa dell'eterno e la radunanza venò vittime e offrì sacrifici di azioni di grazie e tutti quelli che avevano il cuore ben disposto offrirono olocausti il numero degli olocausti offerti dalla radunanza fu di settanta giovenchi cento montoni duecento agnelli tutto per l'olocausto all'eterno e furono pure consacrati seicento buoi e tremila pecore ma i sacerdoti erano troppi pochi e non potevano scorticare tutti gli olocausti perciò i loro fratelli i leviti li aiutarono finché l'opera fu compiuta e finché gli altri sacerdoti si furono santificati poiché le viti avevano messo più rettitudine di cuore a santificarsi dei sacerdoti e vera pure abbondanza di olocausti oltre ai grassi dei sacrifici di azioni di grazie e all'elibazione degli olocausti così fu ristabilito il servizio della casa dell'eterno ed Ezechia e tutto il popolo si rallegrarono che Dio avesse ben disposto il popolo perché la cosa si era fatta subitamente e secondo libro delle cronache capitolo trentesimo poi Ezechia inviò dei messi a tutto Israele e a Giuda e scrisse pure lettere ad Efraim e a Menasse perché venissero alla casa dell'eterno a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore dell'eterno dell'Idio di Israele il re i suoi capi e tutta la radunanza in un consiglio tenuto a Gerusalemme avevano deciso di celebrare la Pasqua il secondo mese giacché non la potevano celebrare al tempo debito perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato in Gerusalemme la cosa piacque al re e a tutta la radunanza e stabilirono di proclamare un bando per tutto Israele da Beershiba fino a Dan perché la gente venisse a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore dell'eterno dell'Idio di Israele poiché per la dietro essa non era stata celebrata in modo generale secondo che è prescritto i corrieri dunque andarono con le lettere del re e dei suoi capi per tutto Israele e Giuda e conformemente all'ordine del re dissero figlioli di Israele tornate all'eterno all'Idio di Abramo di Isacco e di Israele onde egli torni al residuo che di voi è scampato dalle mani del re di Assiria e non siate come vostri padri e come vostri fratelli che sono stati infedeli all'eterno all'Idio dei loro padri in guisa che egli ha dati in preda la desolazione come voi vedete ora non indurate le vostre servici come i padri vostri date le mani all'eterno venite al suo santuario che egli ha santificato in perpetuo e servite all'eterno il vostro Dio onde l'ardente ira sua si ritiri da voi poiché se tornate all'eterno i vostri fratelli i vostri figlioli troveranno pietà in quelli che li hanno menati schiavi e ritorneranno in questo paese già che l'eterno il vostro Dio è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lungi da voi se a lui tornate quei corrieri dunque passarono di città in città nel paese di Efraim di Menasse fino a Zabulon ma la gente si faceva beffe di loro e li scherniva non di meno alcuni uomini di Asher di Menasse di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme anche in Giuda la mano di Dio operò in guisa da dar loro un medesimo cuore per mettere ad effetto l'ordine del re e dei capi secondo la parola dell'Eterno un gran popolo si riunì a Gerusalemme per celebrare la festa degli Azimi il secondo mese fu una radunanza immensa si levarono e tolsero via gli altari sui quali si offrivano sacrifici a Gerusalemme tolsero via tutti gli altari su quali si offrivano profumi e li cettarono nel torrente Kidron poi immolarono l'agnello pasquale il quattordicesimo giorno del secondo mese i sacerdoti e i leviti i quali presi da vergogna si erano santificati offrirono olocausti nella casa dell'Eterno e occuparono il posto assegnato loro dalla legge di Mosè l'uomo di Dio i sacerdoti facevano la spersione del sangue che ricevevano dalle mani dei leviti siccome ne erano molti nella radunanza che non si erano santificati i leviti avevano l'incarico di molare degli agnelli pasquali consacrandoli all'Eterno per tutti quelli che non erano puri poiché una gran parte del popolo molti di Efraim di Menassi di Zaccardi di Zabolon non si erano purificati e mangiarono la Pasqua senza conformarsi a quello che è scritto ma Ezechia pregò per loro dicendo l'Eterno che è buono perdoni a chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio dell'Eterno che è l'iddio dei suoi padri anche senza aver la purificazione richiesta dal santuario e l'Eterno esaudì Zaccchia e perdonò il popolo così i figlioli di Israele che si trovavano a Gerusalemme celebrarono la festa degli Azimi per sette giorni con grande allegrezza e ogni giorno i Leviti e i sacerdoti celebravano l'Eterno con gli strumenti consacrati ad accompagnare le sue lodi e Zecchia parlò al cuore di tutti i Leviti che mostrava grande intelligenza nel servire l'Eterno e si fecero i pasti della festa durante i sette giorni offrendo sacrifici di azioni di grazie e lodando l'Eterno l'iddio dei loro padri e tutta la radunanza deliberò di celebrare la festa per altri sette giorni e la celebrarono con allegrezza durante questi sette giorni poiché Ezechia re di Giuda aveva donato la radunanza a mille giovenchi e sette mila pecore e i capi pure avevano donato la radunanza a mille tori e decimila pecore e i sacerdoti in gran numero si erano santificati tutta la radunanza di Giuda i sacerdoti e i leviti tutta la radunanza di quelli venuti da Israele e gli stranieri giunti dal paese di Israele o stabiliti in Giudea furono in festa così così vi fu gran gioia in Gerusalemme dal tempo di Salomone figliolo di Davide re di Israele non si era fatto nulla di simile in Gerusalemme poi i sacerdoti leviti si levarono e benedissero il popolo e la loro voce fu udita e la loro preghiera giunse fino al cielo fino alla santa dimora dell'Eterno secondo libro delle cronache capitolo trentunesimo quando tutte queste cose furono compiute tutti gli israeliti che si trovavano qui ripartirono per la città di Giuda e frantumarono le statue abbatterono gli idoli da starte demolirono gli altri luoghi e degli altari in tutto Giude e Beniamino e in Efraim e in Menasse e in Guisa che nulla più ne rimanesse poi tutti i figlioli di Israele se ne tornarono nelle loro città ciascune nel proprio possesso Ezechia stabilì le classi dei sacerdoti e dei leviti nelle loro funzioni ognuno secondo il genere del suo servizio sacerdoti e leviti per gli olocausti e i sacrifici di azioni di grazie per il servizio per la lode e per il canto entro le porte del campo dell'Eterno stabili pure da parte che il re preelevarebbe dai suoi beni per gli olocausti per gli olocausti del mattino e della sera per gli olocausti dei sabati dei novi luni e delle feste come sta scritto nel libro della legge dell'Eterno e ordinò al popolo agli abitanti di Gerusalemme di dare ai sacerdoti e ai leviti la loro parte affinché potessero darsi all'adempimento della legge dell'Eterno non appena quest'ordine fu pubblicato i figlioli di Israele dettero in gran quantità le primizie del grano del vino dell'olio del miele di tutti i prodotti dei campi e portarono la decima ad ogni cosa in abbondanza e figlioli di Israele e di Giuda che abitavano nelle città di Giuda menarono anch'essi la decima dei buoi e delle pecore e la decima delle cose sante che erano consacrate all'Eterno al loro Dio e quelle quali si fecero tanti mucchi cominciarono a fare quei mucchi il terzo mese e finirono il settimo mese Ezechia e i capi vennero a vedere quei mucchi e benedissero l'Eterno e il suo popolo di Israele ed Ezechia interrogò i sacerdoti e i leviti relativamente a quei mucchi e il sommo sacerdote azzaria della casa di Zadok gli rispose da che si è cominciato a portare le offerte nella casa dell'Eterno noi abbiamo mangiato e ci siamo saziati e vi è rimasta roba in abbondanza perché l'Eterno ha benedetto il suo popolo ed ecco la gran quantità che è rimasta allora Ezechia ordinò che si preparassero delle stanze nella casa dell'Eterno e furono preparate e vi ripossero fedelmente le offerte la decima e le cose consacrate con Ania il levita ne ebbe la sovraintendenza e Shimea il suo fratello veniva in secondo luogo erano impiegati sotto la direzione di Conania e del suo fratello Shimei per ordine del re Ezechia e Dazzaria capo della casa di Dio il levita core figliolo di Inna guardiano della porta orientale era preposto ai doni volontari fatti da Dio per distribuire le offerte fatte dall'Eterno e alle cose santissime sotto di lui stavano Eden Minianin Jeshua Shemaia Amaria Se Cania delle città dei sacerdoti come uomini di fiducia per fare le distribuzioni ai loro fratelli grandi e piccoli secondo le loro classi eccettuati i maschi che erano registrati nelle loro geneologie dall'età di tre anni in su cioè tutti quelli che entravano giornalmente nella casa dell'Eterno per fare il loro servizio secondo le loro funzioni e secondo le loro classi la registrazione dei sacerdoti si faceva secondo le loro case patriarcali e quella delle viti dall'età di vent'anni in su secondo le loro funzioni e secondo le loro classi dovevano fare le distribuzioni a quelli di tutta la radunanza che erano registrati con tutti i loro bambini con le loro moglie con i loro figlioli con le loro figliole poiché nel loro ufficio di fiducia amministravano i doni sacri e per i sacerdoti figlioli daronne che dimoravano in campagna nei contadi delle loro città verano in ogni città degli uomini designati per nome per distribuire le porzioni a tutti i maschili tra i sacerdoti e a tutti i leviti registrati delle geneologie ezechia fece così per tutto giuda fece ciò che buono e retto e vero dinanzi all'eterno al suo dio in tutto quello che prese a fare per il servizio della casa di dio per la legge per i comandamenti cercando il suo dio e mise tutto il cuore nell'opera sua e prosperò secondo libro delle cronache capitolo trentaduesimo dopo queste cose e questi atti di fedeltà di ezechia senacherib re d'assiria venne entrò in giuda e cinse d'assedio le città fortificate con l'intenzione di impadronirsene e quando ezechia vide che senacherib era giunto e si proponeva di attaccare gerusalemme deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città ed essi gli prestarono aiuto si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che escorreva attraverso il paese perché dicevano essi il re d'assiria venendo troverebbe egli abbondanza d'acqua ezechia prese animo ricostruì tutte le mura dove erano rotte rialzò le torri costruì l'alto muro di fuori fortificò millo nelle città di davide e fece fare gran quantità di armi e di scudi diede dei capi militari al popolo li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo siate forti fatevi animo non temete e non vi sgomentate a motivo del re d'assiria e della gran gente che accompagna già che con noi è uno più grande di ciò che è con lui con lui è il braccio di carne con noi è l'eterno il nostro dio per aiutarci e combattere le nostre battaglie e il popolo fu riassicurato dalle parole di Ezechia re di Giuda e dopo questo Senacherib re d'assiria mentre stava di fronte all'Achis con tutte le sue forze mandò i suoi servi a Gerusalemme per dire a Ezechia re di Giuda e a tutti quei di Giuda che si trovavano a Gerusalemme così parla Senacherib re degli Assiri in chi confidate voi per rimanervene così assediati in Gerusalemme Ezechia non vi inganna egli per ridurvi a morire di fame e di sete quando dice l'Eterno il nostro dio ci libererà dalle mani del re d'assiria non è egli lo stesso Ezechia che ha soppresso gli alti luoghi gli altari dell'Eterno e che ha detto a Giuda e a Gerusalemme voi adorerete dinnanzi a un unico altare e su quello offrirete profumi non sapete voi quello che io e miei padri abbiamo fatto a tutti i popoli degli altri paesi gli dèi delle nazioni di quei paesi hanno essi potuto liberare i loro paesi dalla mia mano qual è fra tutti gli dèi di queste nazioni che i miei padri hanno sterminate quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla mia mano e potrebbe il vostro Dio liberare voi dalla mia mano or dunque Ezechia non vi inganni e non vi seduca in questa maniera non gli prestate fede poiché nessun Dio da alcuna nazione o da alcun regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri quanto meno potrà lì Dio vostro liberar voi dalla mia mano I servi di Senacherib parlarono ancora contro l'Eterno Iddio e contro il suo serve Ezechia Senacherib scrisse pure delle lettere insultando l'Eterno l'Iddio di Israele e parlando contro di lui in questi termini come gli dèi delle nazioni degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano così neanche l'Iddio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il popolo suo I servi di Senacherib gridarono ad alta voce in lingua giudaica rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura per spaventarlo e atterrirlo e potersi così impadronire della città e parlarono dell'Iddio di Gerusalemme come degli dèi dei popoli della terra che sono opera di mano d'uomo allora il re Ezechia e il profeta Isaia figliolo di Amoz pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido e l'Eterno mandò un angelo che sterminò nel campo del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi i principi e i capi e il re se ne tornò svergognato al suo paese e come fu entrato nella casa del suo Dio i suoi propri figliuoli lo uccisero quivi di spada così l'Eterno salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Senacherib re d'Assiria e dalla mano di tutti gli altri e li protese d'ogni intorno e molti portarono a Gerusalemme delle offerte all'Eterno e degli oggetti preziosi a Ezechia re di Giuda il quale da allora sorse in grande considerazione agli occhi di tutte le nazioni in quel tempo Ezechia fu malato a morte e gli pregò l'Eterno e l'Eterno gli parlò e gli concesse un segno ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio che aveva ricevuto giacché il suo cuore si inorgoglì e l'ira dell'Eterno si volse contro di lui contro Giude e contro Gerusalemme non di meno Ezechia si umiliò dell'essersi inorgoglito in cuor suo tanto egli quanto gli abitanti di Gerusalemme perciò l'ira dell'Eterno non venne sopra loro durante la vita di Ezechia Ezechia ebbe immense ricchezze e grandissima gloria e si fece dei tesori per riporvi argento oro pietre preziose aromi scudi di ogni sorta ad oggetti di valore dei magazzini per i prodotti del grano vino olio delle stalle per ogni sorta di bestiame e degli ovili per le pecore si edificò delle città ed ebbe greggi e mandri in abbondanza perché Dio gli aveva dato dei beni in gran copia Ezechia fu quelli che turò la sorgente superiore delle acque di Gibon e che condusse giù direttamente dal lato occidentale della città di Davide Ezechia riuscì felicemente in tutte le sue imprese non di meno quando i capi di Babilonia gli inviarono dei messi per informarsi del prodigio che era venuto nel paese e Dio lo abbandonò per metterlo alla prova affin di conoscere tutto quelli che egli aveva in cuore le rimanenti azioni di Ezechia e le sue opere pie trovansi scritte nella visione del profeta Esaia figliolo di Amoz inserita nel libro dei re di Giude e di Israele Ezechia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto sulla salita dei sepolcri dei figlioli di Davide e alla sua morte tutti Giuda e gli abitanti di Gerusalemme gli resero onore e menasse suo figliolo regnò in luogo suo secondo libro delle cronache capitolo trentatreesimo menasse aveva dodici anni quando cominciò a regnare e regnò cinquantacinque anni a Gerusalemme egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno seguendo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinnanzi ai figlioli di Israele riedificò gli altri luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti e resse altari ai bali fece degli idoli da starte e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì e resse pure degli altari ed altri dei nella casa dell'Eterno riguardo alle quali l'Eterno aveva detto in Gerusalemme sarà in perpetuo il mio nome e resse altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa dell'Eterno fece passare i suoi figlioli per fuoco nella valle del figliolo di Inom si dette alla magia all'incantesimo alla stregoneria e istituì di quelli che evocavano gli spiriti e predicevano l'avvenire si abbandonò interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno provocandolo ad ira mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone suo figliolo in questa casa e in Gerusalemme che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele porrò il mio nome in perpetuo e farò che Israele non muova più piede dal paese che io ho assegnato ai vostri padri purché essi abbian cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato cioè tutta la legge i precetti e le prescrizioni dati per mezzo di Mosè ma Menasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutte dinnanzi ai figlioli di Israele l'Eterno parlò a Menasse al suo popolo ma essi non ne fecero caso allora l'Eterno fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria che misero Menasse nei ferri e legatelo con catene di rame e lo menarono a Babilonia e quando fu indistretta implorò l'Eterno il suo Dio e sumigliò profondamente davanti lì Dio dei suoi padri a lui rivolse la sua preghiera ed egli s'arrese ad esse esaudì le sue supplicazioni e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno allora Menasse riconobbe che l'Eterno è Dio dopo questo Menasse costruì fuori della città di Davide a occidenti verso Gihon nella valle un muro che si prolunga fino alla porta dei pesci lo fece girare intorno ad Ofer e lo tirò su a grande altezza e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di Giuda e tolse dalla casa dell'Eterno gli dei stranieri e l'idolo abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa dell'Eterno e a Gerusalemme e gettò tutto fuori della città poi ristabilì l'altare dell'Eterno e offrì sopra dei sacrifici di azioni di grazia e di lode e ordinò a Giuda che servisse all'Eterno all'Idio di Israele non di meno il popolo continuava ad offrire sacrifici sugli alti luoghi però soltanto all'Eterno al suo Dio il rimanente delle azioni di menasse la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolzero nel nome dell'Eterno dell'Idio di Israele sono cose scritte nella storia dei re di Israele e la sua preghiera e come Dio s'arrese ad essa tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà ai luoghi dove costruì degli alti luoghi e pose degli idoli da start e delle immagini scolpite prima che si fosse umiliate sono cose scritte nel libro di Osai poi Menasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in casa sua e Amon suo figliolo regnò in luogo suo Amon aveva ventidue anni quando cominciò a regnare e regnò due anni a Gerusalemme e gli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno come aveva fatto Menasse suo padre offriva sacrifici a tutte le immagini scolpite fatte da Menasse suo padre e le serviva egli non si umiliò dinanzi all'Eterno come si era umiliato Menasse suo padre anzi Amon si rese sempre più colpevole e i suoi servi ordirono una congiura contro di lui e lo uccisero in casa sua ma il popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon e fece re in sua vece Giosia suo figliuolo secondo libro delle cronache capitolo trentaquattresimo Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare e regnò trentun anni a Gerusalemme egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e camminò per le vie di Davide suo padre senza scostarsene né a destra né a sinistra l'ottavo anno del suo regno mentre era ancora giovinetto cominciò a cercare l'idio di Davide suo padre e il dodicesimo anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi dagli idoli d'astarte dalle immagini scolpite dalle immagini fuse e in sua presenza furono demoliti gli altari debali e abbattute le colonne solari che verano sopra e frantumò gli idoli d'astarte e le immagini scolpite e le statue e le ridusse in polvere che sparse sui sepolcri di quelli che avevano offerto loro dei sacrifizi e bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari così purificherò Giuda e Gerusalemme lo stesso fece nelle città di Menasse le fren di Simeone fino a Neftali da tutto in mezzo alle loro rovine demolì gli altari frantumò e ridusse in polvere gli idoli d'astarte e le immagini scolpite abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese d'Israele e tornò a Gerusalemme l'anno diciottesimo del suo regno dopo aver purificato il paese e la cassa dell'Eterno mandò Shafan figliolo di Azzalia ma Asseia governatore della città e Joa figliolo di Joachaz l'archivista per restaurare la casa dell'Eterno del suo Dio e quelli si recarono dal sommo sacerdote il Chia e fu loro consegnato il danaro che era stato portato nella casa di Dio e che i leviti custodi della soglia avevano raccolto in Menas in Efraim e in tutto il rimanente di Israele in tutto Giude Beniamino e fra gli abitanti di Gerusalemme ed essi lo rimisero nelle mani dei direttori proposti ai lavori della casa dell'Eterno e i direttori lo dettero a quelli che lavoravano nella casa dell'Eterno per ripararla e restaurarla lo dettero ai legnaiuoli ai costruttori per comprare delle pietre da tagliare e del legname per l'armatura e la travatura delle case che i re di Giuda avevano distrutte e quegli uomini facevano il lavoro con fedeltà ed essi erano proposti Giatan e Obadia le viti di tra i figlioli di Merari e Zaccaria e Meshulam fra i figlioli di Kehath per la direzione e tutti quelli che erano le viti che erano abili a suonare strumenti musicali questi sorvigliavano pure i portatori di pesi e dirigevano tutti gli operai occupati nei diversi lavori e fra i le viti addetti a quei lavori verano di quelli che erano segretari commissari portinai or mentre si traeva fuori il denaro che era stato portato nella casa dell'Eterno il sacerdote Ilchia trovò il libro della legge dell'Eterno data per mezzo di Mosè e Ilchia parlò a Shafan il segretario gli disse ho trovato nella casa dell'Eterno il libro della legge e Ilchia diede il libro a Shafan e Shafan portò il libro al re e gli fece al tempo stesso la sua relazione dicendo i tuoi servi hanno fatto tutto quello che è stato loro ordinato hanno versato il denaro che si è trovato nella casa dell'Eterno e l'hanno consegnato a quelli che sono proposti i lavori agli operai e Shafan il segretario disse ancora al re il sacerdote Ilchia mi ha dato un libro e Shafan lo lesse in presenza del re quando il re ebbe udite le parole della legge si stracciò le vesti poi il re diede quest'ordine a Ilchia a Iacan figliolo di Shafan a Abdon figliolo di Mica a Shafan il suo segretario e a Asaia servo del re andate a consultare l'Eterno per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda riguardo alle parole di questo libro che si è trovato già che grande è l'ira dell'Eterno che si è riversata su noi poiché i nostri padri non hanno osservato la parola dell'Eterno e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro Ilchia e quelli che il re aveva designati andarono dalla profetessa Hulda moglie di Shalun figliolo di Tokat figliolo di Hashra il guardaroba essa dimorava in Gerusalemme nel secondo quartiere e quelli le parlarono nel senso indicato da Odre ed ella disse loro così dice l'Eterno l'Idio di Israele dite all'uomo che vi ha mandati da me così dice l'Eterno ecco io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti farò venire tutte le maledizioni che sono scritte nel libro che è stato letto in presenza del re di Giuda poiché essi m'hanno abbandonato ed hanno offerto profumi ed altri dèi per provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani e la mia ira si è riversata su questo luogo e non si estinguerà quanto al re di Giuda che va mandati a consultare l'Eterno gli direte questo così dice l'Eterno l'Idio di Israele riguardo alle parole che tu hai udite giacché il tuo cuore è stato toccato giacché ti sei umiliato dinanzi a Dio udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti giacché ti sei umiliato dinanzi a me e ti sei stracciate le vesti e hai pianto dinanzi a me anch'io t'ho ascoltato dice l'Eterno ecco io ti riunirò coi tuoi padri e sarai raccolto in pace nel tuo sepolcro e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò venire su questo luogo e sopra i suoi abitanti e quelli riferirono al re la risposta allora il re mandò a fare radunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme e il re salì alla casa dell'Eterno con tutti gli uomini di Giuda tutti gli abitanti di Gerusalemme i sacerdoti i leviti e tutto il popolo grandi e piccoli e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa dell'Eterno il re stando in piedi sul palco fece un patto dinanzi all'Eterno impegnandosi di seguire l'Eterno d'osservare i suoi comandamenti i suoi prescetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima per mettere in pratica le parole del patto scritte in quel libro e fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano a Gerusalemme in Beniamino e gli abitanti di Gerusalemme si conformarono al patto di Dio dell'Iddio dei loro padri e Giosia fece sparire tutte le abominazioni di tutti i paesi che appartenevano ai figlioli di Israele e impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire all'Eterno il loro Dio durante tutto il tempo della vita di Giosia essi non cessarono di seguire l'Eterno l'Iddio dei loro padri secondo libro delle cronache capitolo trentacinquesimo Giosia celebrò la Pasqua in onore dell'Eterno a Gerusalemme e l'agnello pasquale fu immolato il quattordicesimo giorno del mese egli stabilì i sacerdoti nei loro uffici e li incoraggiò a compiere il servizio nella casa dell'Eterno e disse ai leviti che ammaestravano tutto Israele ed erano consacrati all'Eterno collocate pure l'arca santa nella casa che Salomone figliuolo di Davide re di Israele ed edificata voi non dovete più portarla sulle spalle ora servite l'Eterno il vostro Dio e il suo popolo di Israele e tenetevi pronti secondo le case patriarcali secondo le vostre classi conformemente a quello che hanno disposto per scritto Davide re di Israele e Salomone suo figliuolo e statevene nel santuario secondo i rami delle case patriarcali dei vostri fratelli figliuoli del popolo e secondo la classificazione della casa paterna dei leviti immolate la Pasqua santificatevi e preparatela per i vostri fratelli conformandovi alla parola dell'Eterno trasmessa per mezzo di Mosè Giosia diede alla gente del popolo e tutti quelli che si trovavano qui vi del bestiamo in minuto agnelli capretti il numero di trentamila tutti per la Pasqua e tremila buoi e questo proveniva dai beni particolari del re e i suoi principi fecero anch'essi un dono spontaneo al popolo ai sacerdoti e ai leviti il Chia Zaccaria e Jeijel conduttori della casa di Dio dettero ai sacerdoti per i sacrifici della Pasqua due mila seicento capi di minuto bestiame trecento buoi Conania Shemaia Netna e Hel suoi fratelli Ashabia Jeijel e Giosabad capi delle leviti dettero ai leviti per i sacrifici della Pasqua cinquemila capi di minuto bestiame cinquecento buoi così il servizio essendo preparato i sacerdoti si misero al loro posto e così pure i leviti secondo le loro classi conformemente all'ordine del re poi fu immolata la Pasqua i sacerdoti sparsero il sangue ricevuto dalle mani dei leviti e questi scorticarono le vittime e i leviti misero da parte quello che doveva essere arso per darlo ai figlioli del popolo secondo i rami delle casse paterne perché lo offrissero all'Eterno secondo che è scritto nel libro di Mosè e lo stesso fecero per i buoi poi arrostirono le vittime pasquali sul fuoco secondo che è prescritto ma le altre vivande consacrate le cosero impignate in caldai e in pentole e si affrettarono a portarle a tutti i figlioli del popolo poi prepararono la Pasqua per se stessi e per i sacerdoti perché i sacerdoti figlioli d'Aronne furono occupati fino alla notte a mettere sull'altare ciò che doveva essere arso e i grassi perciò i leviti fecero i preparativi per se stessi e per i sacerdoti figlioli di Aronne i cantori figlioli d'Azaf erano al loro posto conforme all'ordine di Davide d'Azaf di Eman e di Geduhum il veggente del re e i portinai stavano a ciascuna porta essi non ebbero bisogno di allontanarsi dal loro servizio perché i leviti loro fratelli preparavano la Pasqua per loro così in quel giorno tutto il servizio dell'Eterno fu preparato per far la Pasqua e per offrire olocausti sull'altare dell'Eterno conformemente all'ordine del re Giosia i figlioli d'Israele che si trovavano quivi celebrarono allora la Pasqua e la festa degli Azzini per sette giorni nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dai giorni del profeta Samuele né alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia dai sacerdoti dei Leviti da tutto Giuda e Israele che si trovava anche là e dagli abitanti di Gerusalemme questa Pasqua fu celebrata il diciottesimo anno nel regno di Giosia dopo tutto questo quando Giosia ebbe restaurato il Tempio Neco re d'Egitto salì per combattere a Kerkemish sull'Eufrate e Giosia li mosse contro ma Neco li inviò De Messi per dirgli che vè egli fra me e Teore di Giuda io non salgo oggi contro di te ma contro una casa con la quale sono in guerra e Dio mi ha comandato di far presto bada dunque di non opporti a Dio il quale è meco affinché egli non ti distrugga ma Giosia non vole tornare indietro anzi si travestì per assalirlo e non dire ascolto alle parole di Neco che venivano dalla bocca di Dio e venne dal battaglia nella valle di Megiddo e gli arcieri tirarono al re Giosia e redisse ai suoi servi portatemi via di qui perché son ferito gravemente i suoi servi lo tolsero dal carro e lo misero sopra un secondo carro che era pur suo e lo menarono a Gerusalemme e morì e fu sepolto nel sepolcro dei suoi padri tutto Giuda e Gerusalemme piansero Giosia Geremia compose un lamento sopra Giosia e tutti i cantori e tutte le cantatrici hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino al di d'oggi e ne hanno stabilito un'usanza in Israele essi si trovano scritti tra i lamenti il rimanente delle azioni di Giosia le sue opere pie secondo i precetti della legge dell'eterno le sue azioni prime ed ultime sono cose scritte nel libro del re di Israele e di Giuda secondo libro delle cronache capitolo trentaseesimo allora il popolo del paese prese Ioacaz figliolo di Giosia e lo fece re a Gerusalemme in luogo di suo padre Ioacaz aveva ventitré anni quando cominciò a regnare e regnò tre mesi a Gerusalemme il re d'Egitto lo depose a Gerusalemme e aggravò il paese ed un'idenità di cento talenti d'argento ed un talento d'oro e il re d'Egitto fece re sopra Giuda e sopra Gerusalemme Eliachim fratello di Ioacaz e gli mutò il nome in quello di Ioacchim Neco prese Ioacchim fratello di lui e lo menò in Egitto Ioacchim aveva venticinque anni quando cominciò a regnare regnò undici anni Gerusalemme e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno il suo Dio Nebuchadneze il re di Babilonia salì contro di lui e lo legò con catene di rame per menarlo a Babilonia Nebuchadneze portò pure a Babilonia parte degli utensili della casa dell'Eterno e li mise nel suo palazzo a Babilonia e il rimanente delle azioni di Ioacchim le abominazioni che commise tutto quello di cui si rese colpevole sono scritte nel libro dei re di Israele di Giuda Ioacchim suo figliolo regnò in luogo suo Ioacchim aveva otto anni quando cominciò a regnare regnò tre mesi e dieci giorni a Gerusalemme e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno l'anno seguente il re Nebuchadneze lo mandò a prenderlo lo fece menare a Babilonia con gli utensili preziosi della casa dell'Eterno e fece re di Giuda e di Gerusalemme Sedechia fratello di Ioacchim Sedechia aveva ventun anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme undici anni egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno del suo Dio e non si umiliò dinnanzi al profeta a Geremia che gli parlava da parte dell'Eterno e si ribellò pure a Nebuchadneze che l'aveva fatto giurare nel nome di Dio e indurò la sua servicia e il suo cuore rifiutando di convertirsi all'Eterno all'Idio di Israele tutti i capi dei sacerdoti e il popolo moltiplicarono anch'essi le loro infedeltà seguendo tutte le abominazioni delle gente e contaminarono la casa dell'Eterno che gli aveva santificata a Gerusalemme e l'Eterno l'Idio dei loro padri mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio sprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio allora gli fece salire contro dessi il re dei caldei che uccise di spade i loro giovani nella casa del loro santuario e non risparmiò né giovane né fanciulla né vecchio né canizze l'Eterno gli viene le mani ogni cosa Nebucannese portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio grandi e piccoli i tesori della casa dell'Eterno i tesori del re i suoi capi i caldei i caldei incendiarono la casa di Dio demolirono le mura di Gerusalemme diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti preziosi e la Bucannese ermenò in cattività a Babilonia quelli che erano scampati dalla spada ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figlioli fino all'avvento del regno di Persia affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Geremia fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati di fatti esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione finché furono compiuti i settant'anni nel primo anno di Ciro re di Persia affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Geremia l'Eterno destò lo spirito di Ciro re di Persia il quale a voce per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto così dice Ciro re di Persia l'Eterno l'Iddio dei Cieli mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di edificargli una casa in Gerusalemme che è in Giuda chiunque tra voi e del suo popolo sia l'Eterno il suo Dio con lui e parta